Buonasera, stasera cominceremo mostrandovi un'inchiesta inedita sul caso del Mastro da cui emergono delle interessanti novità su quel caso che coinvolge il sottosegretario della giustizia di Fratelli d'Italia rinviato a giudizio per violazioni di segreto. Ne parleremo poi con Massimo Giannini, con Aldo Cazzullo e altri ospiti. Ci vediamo tra poco. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Buonasera, buonasera, benvenuti a Piazza Pulita. Stasera cominciamo dal sottosegretario della giustizia Andrea del Mastro, uomo forte del governo Meloni e di Fratelli d'Italia, rinviato a giudizio per violazione di segreto. Rimanete con noi, appena un minuto, poco più di Super Spot e cominciamo e vi mostriamo qualcosa di davvero molto interessante. E allora, per raccontarvi chi è, che cosa fa il sottosegretario alla giustizia del Mastro, occorre risalire alle sue antiche origini politiche. Nel luglio del 1935, prima della guerra fiatica, dissi che avremmo spettato le reni al nevo. Ora, con la stessa certezza assoluta, ripeto assoluta, vi dico che spetteremo le reni alla Grecia. E' la nostra libertà, ripeto assoluta, ripeto assolutamente, di rinviato a chi è, che è la nostra libertà. Oggi ovviamente le regni alla Grecia non le spezziamo più Tantomeno all'Albania con la quale facciamo invece un bel accordo Perché si prenda qualche migliaio di migranti prima delle elezioni europee Salvo riprenderceli subito dopo il voto europeo Eppure in compenso al sottosegretario del Mastro Quel gergo mussoliniano resta ancora un po' seppellito nel cuore E ogni tanto lo utilizza ancora Anzi lo fa piuttosto spesso e volentieri Non nei confronti della Grecia e dell'Albania Ma degli odiati magistrati Ascoltate perché questo audio che è stato preso da un bravo collega della stampa È stato registrato due giorni fa ad Aosta Dove il sottosegretario del Mastro parlava ai suoi elettori Ai suoi colleghi di Fratelli d'Italia E allora la riforma del CSM che preveda di spezzare le reni al correntismo cancerogeno Che lede anche l'onorabilità della magistratura Fa sì che sia necessario in maniera radicale intervenire con meccanismi di sottosegge Spezzare le reni al correntismo della magistratura I magistrati ora sorvoliamo sul tipo di linguaggio utilizzato da un sottosegretario Quindi da un rappresentante delle istituzioni verso un corpo autonomo dello Stato Quale è la magistratura? È un linguaggio poco consono a un'istituzione Ma quell'ossessione per Benito che nutre del Mastro Tuttavia continua a colpire, a fare impressione Anche se poi in effetti basta ricordarci qualche sua frase O qualche suo post del passato Per farci passare lo stupore e confermarci un po' la nostra idea Noi siamo stufi di persone che dovrebbero continuamente sottoporre la destra italiana Agli esami ematici a ribosso sempre solo delle elezioni Perché non hanno altro argomento che il fascismo È lui stesso però in questo post su Facebook del 2011 A celebrare con numeri romani l'89esimo anniversario della marcia su Roma Con tanto di scritta M. Il mondo l'ha conosciuto e per esso ha conosciuto l'Italia Io ho trovato dei post molto interessanti su di lei che festeggia il 28 ottobre Non è vero, non ha mai festeggiato Ora qualcuno dirà parlare con il Duce Come il Duce celebrare la marcia su Roma Vabbè basta con questo folklore sul fascismo Al di là di come la si pensi certamente non è invece un folclore Un episodio folclore del rinvio a giudizio Che è stato deciso da un giudice per le indagini preliminari Nei confronti del sottosegretario del Mastro E questo rinvio a giudizio è stato deciso Con appunto l'accusa di violazione di segreto In realtà quello che succede è che Secondo il sospetto del magistrato È che sia stata diffusa una relazione coperta da segreto Quella sull'anarchico al 41 bis Alfredo Cospito Ascoltato di nascosto in carcere dalla polizia penitenziaria Quella relazione che era destinata a restare riservata Fu invece svelata in Parlamento dall'onorevole Donzelli Capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera E compagno di casa di Del Mastro E fu utilizzata per accusare alcuni esponenti del Partito Democratico Andati a visitare qualche giorno prima in carcere Lo stesso cospito in sciopero della fame Di essere questi esponenti del PD Fiancheggiatori di un terrorista e di pericolosi mafiosi Bene, stasera con una ricostruzione del caso del Mastro Donzelli Discuteremo di quella che appare più, e lo vedrete Come una macchinazione politica Ai danni di una parte politica In questo caso dell'opposizione Che è come una procedura volta a tutelare la sicurezza dello Stato Perché per la prima volta nella nostra inchiesta Parla colui che era a capo in quel momento del GOM Il corpo operativo della polizia penitenziaria Che fu coinvolto e messo sotto pressione Dallo stesso sottosegretario Del Mastro Ascoltate bene le sue parole e questa ricostruzione E poi ne parliamo Chiara Proietti C'è una nuova strada Che sta tentando la mafia Per far cedere lo Stato sul 41 bis È un nuovo personaggio Un influencer Che sta utilizzando per questo strumento Ed è il terrorista Cospito Come si può vedere dai documenti Che sono presenti al Ministero della Giustizia Cospito ha avuto un confronto Con Francesco Presta Il killer di rara freddezza Un boss dell'andrangheta E Presta lo esortava Devi mantenere l'andamento Vai avanti E Cospito rispondeva Fuori non si stanno muovendo solo gli anarchici Ma anche altre associazioni Il 12 gennaio 2023 Mentre parlava con i mafiosi Sì ma dobbiamo concludere Concludo Incontrava anche parlamentari Serracchiani, Verini, Lai e Orlando Che andavano a incoraggiarlo nella battaglia Grazie onorevole Allora io voglio sapere Presidente Grazie Se questa sinistra sta dalla parte Dello Stato Di terroristi con la mafia Giovanni Donzelli dice Racconta di aver avuto l'input Per quel suo intervento alla Camera Da un articolo di Lirio Abate Però Donzelli racconta una bugia Quello che Donzelli legge in aula Non sono assolutamente quelle che Lirio Abate Riporta sull'articolo di Repubblica Ma sono altre cose Esattamente le stesse cose Riportate invece nei documenti Che Del Mastro riceverà dal DAP È il 29 gennaio Due giorni prima che Donzelli parli alla Camera Mancano pochi minuti alle 20 Quando il sottosegretario alla giustizia Del Mastro chiama Giovanni Russo Il capo del DAP Il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria Vuole una relazione Su Alfredo Cospito E Russo in quel momento Immediatamente attiva Il GOM e il NIC I due reparti scelti Per avere appunto Tutto i documenti necessari In quel momento al vertice del GOM Il gruppo operativo mobile C'era il generale Mauro D'Amico Domenica sera vengo chiamato Dal capo del dipartimento Il dottor Russo Esatto Credo dopo le nove Mi dice di produrre Con una certa velocità Un appunto che riguarda Cospito Non è una cosa semplice Perché Cospito ha un fascicolo Cospito Il GOM si è specializzato In questi anni Nella detenzione Di detenuti In regime speciale I vostri uomini Se è corretto definirli così Del carcere di Sassari Sono loro Che hanno ascoltato Le conversazioni Tra Cospito E gli altri E i mafiosi Al 41 bis E poi li hanno Relazionati a voi A Roma Esatto Russo mette nelle mani Di D'Amico Il capo del GOM E di Zaccariello Responsabile del NIC Il dossier Nel frattempo Raccontano loro Un po' sorpresi Ai magistrati Cominciano ad arrivare Una serie di sollecitazioni La segretaria del DAP Continua a chiamarli Per chiedere Di fare il più fretta possibile Di avere questi documenti Il più fretta possibile Tra l'altro Voi avevate Spero che l'abbiano aggiustato Non lo so Il server rotto Il server si è rotto I suoi uomini Come hanno fatto Hanno preso i fascicoli Cartacei Hanno preso il fascicolo Cartaceo Messi là Tre persone E li hanno riscritti A computer Certo Sicuramente Centinaia di pagine Però hanno fatto Il succo Di delle cose Le più importanti E alle 11 Di mattina L'appunto Era pronto È il 30 gennaio Alle 13.42 Il capo del DAP Russo Invia un'e-mail Al sottosegretario Del Mastro Contiene una parte Della relazione Del NIC Il nucleo investigativo E del GOM Il gruppo operativo Della polizia penitenziaria Il capo del DAP Decide di inviare Tutto Con la dicitura A limitata divulgazione A quel punto La segreteria Del Mastro Richiama quella del DAP Per dire che non basta Il materiale che è arrivato Hanno bisogno di qualcos'altro E a quel punto Viene deciso di mandare Tutto il dossier Tutto il fascicolo Perché in quel primo invio Che il sottosegretario Riceve dal DAP Non ci sono le carte Che riportano i colloqui Di cospito Con i boss mafiosi Io preparo il tutto Con plico riservato E mando un motociclista Il motociclista È uno che porta La corrispondenza Interno Interno a voi Interno Interno sì Mentre questo motorino Stava partendo Qualcuno chiama dal ministero Dice no Ancora prima Ancora prima Dalla segreteria generale Sollecitano questo appunto Gli è chiesto Se potevamo mandarlo Via mail Io ho autorizzato A mandarlo In the mail Che va in Limitata divulgazione Almeno Danno attenzione Cioè Non mandano questi atti In giro Limitata divulgazione Su che cosa significa Questa dicitura Si è molto discusso In realtà la parola La fine la mette Il capo del DAP Quando viene interrogato Dai magistrati E dice che Limitata divulgazione Sono atti Che devono restare All'interno del perimetro Del ministro della giustizia Sono le 14 e 57 del 30 gennaio A Del Mastro Arriva la seconda relazione Più completa su cospito Intanto alla camera È iniziata da mezz'ora La discussione in aula In calendario C'è proprio l'intervento Di Donzelli Era calendarizzato Le 14 e 30 del 30 gennaio Esattamente l'orario Sarà una coincidenza Magari Esattamente l'orario Che Del Mastro Aveva indicato Come deadline Per consegnare tutti i documenti È anche vero però Che sapevano Perché così è la prassi parlamentare Che il capogruppo Del partito di maggioranza Di Fratelli d'Italia Dunque Donzelli Avrebbe dovuto parlare per ultimo Quindi in tarda serata O come è successo Nella mattinata Del giorno successivo Infatti Donzelli Prenderà la parola Intorno a mezzogiorno Del 31 Nell'ambito dello stesso dibattito Quando le carte Sono ormai arrivate Quasi da 24 ore Carte che Donzelli Citerà E questo lo segnalano Gli stessi magistrati Praticamente a memoria Tanto che il giudice In uno dei predimenti Che scrive Dice che non c'è Alcun dubbio Che Del Mastro Ha procurato quegli atti Per farli avere a Donzelli Diceva Il boss dei Casaledi Pezzetto dopo pezzetto Si arriverà il risultato Che sarebbe L'abolizione del 41 bis E rispondeva Cospito Deve essere una lotta Contro il regime 41 bis E contro il regasso allo stativo Non deve essere una lotta Solo per me Scopriamo che Questo discorso Che lei fa La camera Il 31 gennaio In realtà è il frutto Di una corsa Roccambolesca Quasi Che Del Mastro Chiede a Organi dello Stato Come il DAP Come no? Mi risulta che Mi ha discorso La camera Siano frutto Del mio intelletto Della mia volontà D'esprimermi Delle mie capacità E delle mie idee In un momento in cui Gli anarchici scendevano in piazza Cospito Dove essere trasferito Questo lo può chiedere A Del Mastro Perché io non Ma se È l'uso che la politica fa No, mi scusi Se il ministero della giustizia Gli organi che hanno Dei compiti importantissimi Se il ministero della giustizia Il uomo lo sa che ha Il server All'epoca Lei fa delle domande O vuole fare la sua versione Che è legittima E vuole fare il suo comizio Lo faccia Se non vuole fare le domande Le rispondo Lei ha detto le cose non corrette È giustissimo Che al ministero della giustizia Siano interrogati E chiesti cosa stava accadendo In carcere Ma voi l'avete usato Per colpire gli avversari politici Invece di preoccupare Ancora Ma le dà così noia Che sia venuta la verità sul PD Le dà così noia Che si sia scoperto Che il PD in quel momento Andava a parlare Con i terroristi Un parlamentare Ha il diritto Di chiedere le informazioni Ai ministeri E se il ministero Gli le dice parlarne in Parlamento O no O secondo lei Se è una verità È scomoda il PD Bisogna stare zitti Perché alla sette Se non si arrabbia Formigli E dai Se il dirigente Dell'amministrazione Diceva A che ti serve La punta cospito Non c'è i telega Che ti serve E invece I dirigenti moderni Abbassano tutti la capoccia Abbassa un politico Dell'ultima ora Che dice Bisogna fare così E si fa così Ma quello è lo spot politico Che si sono fatti tra politici Non mi faccio esporre Scusi Ripeto Queste sono le parole Di colui Che era capo Del GOM Cioè dei corpi Operativi Della polizia penitenziaria Che realizzavano Quelle relazioni E ascoltavano I pericolosi detenuti Al 41 bis E quindi È il personaggio Chiave Fondamentale Nella ricostruzione Di questa inchiesta Do il benvenuto A Massimo Giannini Terrorista di Repubblica Massimo Buonasera Ciao Corrado Grazie E allora Non possiamo che non partire da qui Massimo Quello che appare chiaro Dalle parole Dell'ex GAPO Del GOM È che vi fu Un'enorme pressione politica Su corpi dello Stato Beh intanto complimenti Perché avete la smoking gun La pistola fumante Di quello che è accaduto Che non è più soltanto La ricostruzione giornalistica Di un giornale Parla appunto Come dicevi prima Il responsabile del GOM E dice esattamente Quello che era stato scritto Dai nostri giornalisti Su Repubblica E cioè Che un sottosegretario Alla giustizia Ha forzato Un'istituzione Un corpo dello Stato Per avere un documento Che doveva restare Nel perimetro Dell'amministrazione Della giustizia Dell'amministrazione giudiziaria Per bastonare In Parlamento L'opposizione politica Trasferendo informazioni Riservate Ad un collega di partito Direi quasi Un camerata di partito A questo punto Che l'ha usata Come un manganello Politico Contro il partito Democratico A me pare Di una gravità Estrema Oggi I dirigenti Dello Stato Piegano la testa Davanti al primo politico Che passa Tra l'altro Dice L'ex capo Del GOM Che va in pensione Tra l'altro Due giorni dopo Questo fatto Quindi lui Diciamo Si trova in questa situazione Tra l'altro Io ho sentito Tutta la telefonata Insomma A un certo punto Lui dice Insomma Io non volevo neanche dare Perché lui capisce Che c'è una forzatura Evidentemente Ma non voleva dare Neanche l'impressione Sono agli ultimi due giorni Me ne frego Quindi lui Diciamo In qualche maniera Obedisce A quello che è Un forte input politico Però insomma Qua viene fuori Che mancano Anche dei corpi Intermedi Dirigenti importanti Dello Stato Sono piegati A operazioni politiche Totalmente In questi casi Quello che occorrerebbe È che la politica Con senso di responsabilità Utilizzasse le istituzioni Per la loro funzione Essenziale Che non è quella Di fornire materiale Per condurre La battaglia politica In questo caso Noi siamo davvero In presenza Di un uso proprietario Di un'istituzione repubblicana E di un abuso arbitrario Delle funzioni di governo E per questo Che Del Mastro In qualunque altro paese Non starebbe più Al suo posto E non ci sarebbe bisogno Come dicono i garantisti Alle vongole di casa nostra Di aspettare Che il processo Abbia il suo corso Perché il tema È politico Non è giudiziario E non riguarda Il codice penale Riguarda la ragione politica Che è stata Palesemente Violentata Il ministro Della difesa Crosetto Accusato Qualche giorno fa Di possibili complotti Alcuni magistrati Che sarebbero orientati Politicamente Secondo te Si riferiva anche A vicende come questa Cioè Perché qui c'è Un'altra questione curiosa Che su questo caso Del Mastro La procura Di Roma Chiede l'archiviazione Ed è un giudice Il Gupp Che invece Legge le carte Probabilmente anche lui Avrà parlato Immagino Forse con il capo Dell'ex capo del GOM Con quei dirigenti E dice No qui Dobbiamo andare A chiarire Imputazione coatta Questa è una questione Piuttosto Piuttosto strana L'offensiva Della maggioranza Nei confronti Della magistratura E verso questo tipo Di controlli Evidentemente E' chiaro Anche questo Riflette Questa Intolleranza Nei confronti Degli altri poteri Dello Stato E degli organi Di garanzia E' tipico Dei populismi Dei sovranismi E di questo governo In particolare Di questa maggioranza In particolare Crosetto Nella sua uscita Ha poi fatto Varie retromarce No? Perché lui aveva detto Una cosa Che era un'altra enormità Nell'intervista Al Corriere della Sera Lui dichiara Che l'unica cosa Che può far cadere Questo governo E' l'opposizione giudiziaria Aggiunge Che una parte Un'area specifica Una corrente specifica Della magistratura Sta lavorando Per fermare La deriva antidemocratica Del governo Meloni Testuale E aggiunge Una terza cosa Che secondo me E' stata poco sottolineata E cioè dice Tutto questo Accadrà prima Delle europee Allora Non è un allarme generico Se uno lo prende Per buono Dice Stanno per fare un golpe Poi abbiamo capito Che forse il golpe Non c'è Lo stesso Crosetto Ha fatto più volte Correzioni di rotta La commissione antimafia Ha detto Non lo ascoltiamo Perché non è materia nostra Il Copa Ha fatto la stessa cosa Alla fine Se l'è cavata Con due chiacchiere Col presidente Dell'ANM Però la sensazione Dunque Non essendoci il golpe Come era ovvio E che sia stata Una sorta di Intimidazione Chiamiamola come vogliamo Nei confronti di Alcune scelte Che la magistratura Sta facendo E farà Perché oltre alla vicenda Del Mastro C'è poi quella che riguarda Daniela Santanchè Che è ministra Del turismo E lì anche Probabilmente Si potrebbe andare A un rinvio a giudizio C'è il figlio Di La russa La russa Apash la russa Anche lui Ricordiamo Indagato C'è anche ancora Un processo Per Matteo Salvini Ce ne sono diversi Come dico L'agenda penale Di questa maggioranza È piuttosto fitta E allora Si mandano dei segnali Esatto Non resta che questa spiegazione A quel punto C'è un altro C'è un altro Potere che dovrebbe Controllare L'operato del governo E della politica In generale Oltre alla magistratura Che è l'informazione Giorgia Meloni Rivendica Un anno di grandi risultati Nonostante un grande Accanimento contro di lei Anche sulle sue Vicende familiari Alla Meloni Secondo te La stampa L'informazione Gioristi Fanno meno sconti Che ai suoi predecessori Ma nella maniera Più assoluta Non esiste al mondo Anzi Anzi Se ti devo dire la verità La mia sensazione È esattamente Opposta Anche perché Hanno occupato Manu militari La RAI Si dice Ed è giusto Lo facevano anche gli altri L'hanno sempre fatto Ma mai con questa gioia feroce Questa maggioranza Ha il piacere Di occupare Per occupare Quindi la RAI È già loro Mediaset Tendenzialmente Lo è Anche se qua e là Lancia segnali Guarda la vicenda Gian Bruno Ma comunque È sicuramente Una televisione Che non disturba Il manovratore Nella carta stampata Metà dei giornali Sono tutti Per Giorgia Meloni E anzi Io dico spesso Che c'è il randellatore Di redazione Perché Basta vedere i titoli Di alcuni giornali quotidiani Di cui possiamo fare i nomi Il giornale La verità Libero Il tempo Insomma Mezza carta stampata Eccolo Quindi Tutto questo rientra Nella solita sindrome Vittimistica Complottistica Che è tipica Di Giorgia Meloni E del suo partito Sono stati tanti anni All'opposizione Fuori dall'arco costituzionale Lei è l'underdog Ce l'ha fatta Continua a ragionare Come se fosse All'opposizione È interessante Vi racconto Questo episodio Perché Non so se avrà un seguito Ma Ho mandato la nostra inviata Roberta Benvenuto A fare un racconto Un ritratto Del ministro Lollobrigida Il cognato Quello del treno Che ha fermato il treno È interessante Perché tra la sostituzione etica E il treno Ma anche la questione La carne sintetica Ho detto alla mia inviata Racconta Lollobrigida Come personaggio La sua storia E naturalmente Cosa fa Un giornalista Che deve raccontare Va anche nel luogo di origine Dove è nata la storia Di quel politico Quindi siccome Lollobrigida E Subiaco Roberta Benvenuta È andata a Subiaco È stata a Subiaco Poche ore Tra l'altro Chiedendo un'intervista A Lollobrigida Avvisando il partito Perché doveva Intervistare anche il sindaco Esce questo post Del ministro Lollobrigida Che si apre Con una dichiarazione Di Marco Aurelio Se non è giusto Non farlo Se non è vero Non dirlo Quindi dichiarazione imperiale Diciamo Che apre il post Che recita così Mi raccontano Che i soliti giornalisti Hanno passato L'intera giornata A Subiaco Il mio paese A intervistare Amministratore cittadini Sulla mia famiglia I miei amici La mia vita pubblica E privata Lasciando il numero telefonico Alle persone nei bar Come i detective Nei filmetti americani Per molti di loro L'informazione Insulto Fango Pettegolezzi Notizie distorte E piacimento Ma alla fine La verità è una La dimostrazione Il senso e impotenza Le stesse italiane Eccetera eccetera Si riducono A rovistare Dovunque A testa bassa Insomma C'è una certa Insofferenza Insomma Noi abbiamo mandato Un'inviata Ma soprattutto Il pezzo Di definirlo Bisognerebbe vederlo Senti Passiamo da un ministro All'altro Questa roba è vergognosa Naturalmente Ma è il riflesso Di quello che Dice Giorgia Meloni Che si lamenta Che hanno violato Senza pietà La sua vita privata Non è mai successo Tutto quello Che si sa Della sua vita privata L'ha autoprodotta Lei medesima Da un lato Ha scritto Un'autobiografia Ha scritto due libri Due autobiografie In cui c'è scritto tutto Parla della moglie Della mamma Della nonna La sorella Tutti Quindi figuriamoci Ma vogliamo parlare Del ministro Sangiuliano Che manda Una diffida Preventiva A una trasmissione Radiofonica Che ancora Non ha detto niente Non è che Mi hanno diffamato E li denuncio No Però Se continuate A irridermi Allora io Ricorrerò A via Cioè È evidente Che tutto quello Che riguarda La libera informazione Che in questo paese Come negli altri Fa il suo mestiere Rappresenta Per questa maggioranza Un gigantesco Intralcio E quindi Anche qua Intimidazioni Attacchi diretti Post come quello Di Lolo Brigida Oppure accuse A programmi Come otto e mezzo Da parte Della Meloni Non capiscono La dismisura Che c'è In un governo Che contesta La libera informazione E che altera Totalmente Le logiche Democratiche Loro hanno il potere Noi no Però Diciamo L'obiezione che si fa E prendiamo il patto Con l'Albania Sui migranti Ovviamente È stato un po' Sbertucciato Perfino lo stesso Presidente Albanese Di Rama Ammette Che insomma È chiaro Che c'è Uno scopo elettorale Però la politica È anche in ricerca Del consenso Cioè Alla fine Questo governo Cerca il consenso Certo È sbagliato farlo? No Non è sbagliato farlo Infatti lo facciano E mi pare che Lo stiano facendo Sistematicamente A volte ho la sensazione Però che più che Cercare il consenso Cerchino l'assenso Cioè O dici sì E applaudi O se no Sei un problema E questo riguarda Ti ripeto Non soltanto La libera informazione Ma riguarda Gli organi di garanzia L'abbiamo detto La magistratura E l'abbiamo visto Abbiamo detto I tribunali La corte costituzionale Vedremo come andrà Questa riforma Il Presidente della Repubblica Esatto Vedremo come andrà La riforma del Premierato Perché quello è Lo snodo fondamentale Intorno al quale Ruota L'equilibrio Dei poteri Che questo governo Vuole totalmente Piegato Sull'esecutivo Contro gli altri poteri Dello Stato Insomma È una visione Della democrazia Che non riflette La nostra tradizione Di democrazia parlamentare Rappresentativa È piuttosto Zagrebelsky Ha citato La dittatura elettiva Insomma Ecco Stiamo scivolando Attraverso Regressioni progressive Verso quell'esito là E questo ci deve preoccupare Dietro il consenso Che comunque È ancora alto Ricordiamolo Per Giorgia Meloni C'è più forza Della Premier O più debolezza Dell'opposizione Ma chiaramente Tutte e due le cose Sono l'una Allo specchio dell'altra Ovviamente Tant'è vero Che per adesso E questo Io credo Che crescerà Di qui alle elezioni europee La vera opposizione Lei ce l'ha dentro casa E si chiama Matteo Salvini E la stiamo vedendo L'abbiamo vista domenica Nel cantiere nero Di Firenze Ma la vedremo ancora Nei prossimi mesi Finché non si arriverà Al voto Del prossimo giugno E l'opposizione Invece quella vera È un grosso problema Del paese È un grosso problema Per la democrazia Tu promuovi O bocce Elislein Ma io sospendo il giudizio Nel senso che naturalmente Elislein Sta attraversando Il deserto Lei ha vinto Le primarie E aveva Tre grandi qualità Che erano Rispetto a Giorgia Meloni Che vince le elezioni E cambia la storia Del paese L'essere donna L'essere giovane E l'essere nuova Tant'è vero che Nella primissima fase I sondaggi Per quel che valgono Ma un po' valgono Hanno subito registrato Un'impennata del PD Che è cresciuto di 5 punti Adesso ho l'impressione Che la spinta propulsiva Si sia un po' attenuata Devi riempire Quelle tue tre qualità Con contenuti politici E con un linguaggio Più chiaro E più intellegibile Il Vangelo di Matteo Sia il tuo dire Sì, sì No, no Ecco Troppe volte Schlein svicola E non si fa capire Ma senti Pensi che un campo largo Con un federatore Tra il PD Democratico e 5 Stelle Serva? Sarebbe fondamentale Perché ovviamente Nessun partito Dell'opposizione Come anche Nessun partito Della maggioranza Anche se per ora Meloni ha il vento In poppa Può pensare Di rivendicare Oggi La vocazione maggioritaria Che fu quella Del PD di Veltroni No Siamo Tutti di fronte A partiti Che se non si alleano Non possono Né governare Né rappresentare L'alternativa Quindi assolutamente Sì Ci vorrebbe un federatore Ma ci vorrebbe Prima di tutto La comune volontà Di fare un'opposizione Coesa e condivisa Ed è quella Che in questo momento Manca C'è stata una felice Eccezione Che è stato il salario Minimo E anzi Da questo punto di vista Credo che Meloni Abbia sbagliato A prendergli a schiaffi In faccia Come ha fatto in Parlamento In questi ultimi due giorni Perché quello Ha ricompattato parecchio L'opposizione No Viceversa Con un approccio Più collaborativo Secondo me Li divaricava Ancora una volta Invece Li ha ricompattati Ma quanti altri salari Minimi ci saranno Di qui ai prossimi mesi Questo è il vero tema Dunque C'è un'immagine Plastica Che voglio commentare Con te E poi commenterò Anche con Aldo Cazzullo Che ci sta per raggiungere Che è il presidente Del senato Ignazio Larussa Che oggi Alla scala Quello che c'ha I busti di Mussolini In casa Che definisce I nazisti Di Via Rasella Una banda musicale Di buon temponi Semipensionati E si rifiuta Di partecipare Il 25 aprile Seduto Sul palco Accanto A Liliana Segre È un bel cortocircuito Questo qui No? Sì Purtroppo Devo dire È un cortocircuito Che avevamo già visto Dopo la vittoria Di Fratelli d'Italia Il 25 di settembre Quando si sono Insediate le camere E Liliana Segre Ha fatto il discorso Inaugurale Del nuovo senato A fianco Al neopresidente Del senato Ignazio Larussa Che le ha regalato Un gran bel mazzo Di rose Galateo istituzionale Ma dopodiché Dal punto di vista politico Rimane Diciamo Una certa inquietudine Nel vedere due figure Di quel tipo L'una a fianco All'altra Con due storie Inconciliabili E incompatibili E se stanno insieme Lo si deve Soltanto All'enorme Spessore umano Culturale E politico Di Liliana Segre Anche perché Ricordiamo che c'è stato Qualcosa di più Perché tu parli Del discorso Di insediamento Di apertura del senato Ma poi Il presidente Larussa Ha insistito anche dopo Cioè Non ha mai tirato indietro Il piede Diciamo Sulle questioni Che riguardano Fascismo Antifascismo Ma La frase di Via Rasella Se non sbaglio È avvenuta successivamente Tutto è avvenuto successivamente Non c'è dubbio Su rifiuto di partecipare Al 25 aprile O di dichiararsi antifascista Anzi Ricordiamolo Vediamo Questa fu Diciamo La frase Su Via Rasella Pronunciata Dal presidente del senato La russa Quello che i partigiani Avevano fatto In Mia Rasella Non è stata una pagina Nobilissima Della resistenza Non è stata la più nobile Anche perché Quelli che vennero ucciso Non erano biechi Nazisti Delle SS Ma erano Una banda Di semi pensionati Una banda Musicale Italiani peraltro Alto a tesini Alto a tesini Sì E in quel momento Mezzi tedeschi Mezzi italiani Si capiva bene C'erano tedeschi O italiani Allora saluto Aldo Cazzullo Benvenuto Aldo Editorista Il Corriere della Sera Conduttore Della giornata particolare Sulla 7 Ha scritto Per Apper e Collins Quando eravamo padroni Del mondo Che è Come in tanti libri Di Aldo Un best seller Insomma Roma L'impero infinito Dopo questa Proprio probabilmente Con Ancora Nella memoria Questa frase Il pubblico Della scala Oggi Diciamo Quando Si è visto Il presidente La russa Sul palco Con l'Iana Segre Ha gridato Queste parole Bravo L'anno scorso C'erano stati L'applausi Interminabili Al presidente Mattarella Oggi c'è Viva l'Italia Antifascista Che il presidente La russa Dice di non aver sentito Ma intanto Viva l'Italia Antifascista È un grido A cui credo Tutti Potremmo E dovremmo Associarci Prima Corrado Hai fatto vedere Un frame Con la frase Che disse Fini Uscito Dallo Yad Vashem Durante la sua Visita in Israele Opportunamente Avete detto Il fascismo Parte del male assoluto Perché Fini Non disse Come poi Fu semplificato È il male assoluto Lui disse Che allo Yad Vashem Che è il museo Della Shoah Aveva visto Il male assoluto Cioè la persecuzione Degli ebrei Noi giornalisti Che eravamo lì Facciamo il nostro lavoro Gli facciamo delle domande Ma quindi anche Salò Lui disse Tutto quello Che ha portato Alla persecuzione Degli ebrei È il male assoluto Ma allora anche il fascismo Tutto quello Che ha portato Alla persecuzione Degli ebrei È il male assoluto Poi chiaro Che lui non poteva Poi smentire La semplificazione Che ne uscì Sarebbe equivalso Al fallimento Del viaggio Mi ricordo però Ignazio La Russa Ha intervistato In una puntata Come dire Per così Aggiustare Quello che lui Reteneva Un torto fatto Ha intervistato Da Bruno Vespa A dire Noi siamo fieri Di Salò Siamo fieri Dei militanti Di Salò Come dire Non ce l'abbiamo Con voi Per carità Mettiamola così Gianfranco Fini Pensava Che la destra italiana Per andare al governo Per guidare il governo Pur avendo Un vasto consenso Dovesse rompere Con il passato E quindi fece Fiuggi Cambio nome al partito Avvia un percorso Che avrebbe portato Anche a eliminare La fiamma E andò La Yad Vashem A dire quello che ha detto Ignazio La Russa Ma anche Giorgio Meloni Hanno valutato Che non fosse necessario Andare Trare le conseguenze Ad esempio Togliendo la fiamma Dal simbolo Da quel processo Hanno valutato Che se potesse andare Al governo Anche restando se stessi Devo dire Che l'elettorato Li ha premiati Hanno vinto le elezioni L'Ignazio La Russa È legittimamente La seconda carica Dallo Stato È altrettanto legittimo Che i lavoratori della Scala Non vadano a salutarlo Come si omaggia Un personaggio In cui non si riconoscono Perché la russa Non sarà più fascista Ma certo Non è antifascista Direi che semmai È anti-antifascista E quindi Siccome non siamo In un regime Non è Salazar Non è Mussolini Magari piacerebbe esserlo Ma non lo è Ci sta anche Una forma di dissenso Come che grida Viva l'Italia antifascista O come i lavoratori Che non vanno ad omaggiarlo O come Sala Che legittimamente dice Preferisco sedere vicino L'Igna Segre Che non Agnazzio La Russa E ha ragione Massimo Quando fa notare Che L'Igna Segre Ha dimostrato La sua cultura E anche il suo buonsenso Direi Chiudiamo le polemiche Godiamoci la prima della Scala C'è una questione C'è una contraddizione forte Che stiamo vivendo Perché da una parte Abbiamo ancora Tutto questo rimasuglio Diciamo Post-fascista O ancora fascista Ricordiamo che Il fratello di Romano La Russa È ancora Orgogliosamente fascista Partecipa Insomma Fa il saluto romano Lo abbiamo visto La commemorazione Di un camerata morto Insomma Ed è oggi assessore Alla sicurezza La regione Lombardia Da una parte Hai tutto questo strascico Dall'altro Hai una Giorgia Meloni Che invece Cerca di accreditarsi Con le istituzioni europee Come un grande leader Moderato Capace di fare accordi Con i centristi E in questo C'è il tema Salvini Queste due facce Possono stare assieme A lungo Cioè Giorgia Meloni Riuscirà a traghettare Anche i resti Diciamo Della tradizione fascista In un nuovo partito Centrista Moderato Di centro-destra Il tentativo È evidente Che sia quello Richiede tempo Perché Meloni Non ha voluto Introdurre Una cesura netta Come secondo me Invece Avrebbe dovuto fare Subito E però Diciamo I nodi Stanno venendo al pettine Proprio in virtù Delle elezioni europee Meloni aveva Un grande disegno Dal suo punto di vista Che era quello In vista del voto di giugno Di creare una maggioranza Tra i conservatori E i popolari Rompendo l'asse Con i socialisti È stata la maggioranza Che ha eletto Ursula von der Leyen Quel progetto È fallito Perché non ci sono i numeri E non c'è neanche La disponibilità E quindi ha ricominciato A trattare al centro Però Dovrà dirci Di qui A giugno Per l'appunto Quali alleanze Sceglierà Se davvero Quel progetto È archiviato Per sempre E dunque Se riproporrà L'alleanza Tra popolari E socialisti Cioè Se vorrà essere parte Di coloro Che eleggeranno Il prossimo presidente Della Commissione europea Oppure se si condannerà L'irrilevanza Per non perdere Quel rimasuglio Che dicevi tu prima È una incognita Che deve sciogliere Così come Insieme a questa Ci dovrà dire Qual è Il suo presidente Americano Ideale Tra Trump E Biden Se resterà Biden Voglio ricordare Che in questi anni Quando era ancora presidente Meloni è stata Fedelmente Trampiana Persino Quando c'è stato Capitol Hill Lei ha elogiato Gli sciamani Jake Angeli Ce lo ricordiamo Con le corna in testa Proviamo a scommettere Che non prenderà Una posizione Cambierà lo schema Però ecco Questa volta Non prenderà la posizione Però ecco Allora L'ambiguità Il non avere più Un'identità Alla fine Stingerla In modo così Spicciolo È una caratteristica Delle forze populiste Che vincono anche per questo Lei mi sembra Che abbia qualche difficoltà A farlo Quindi io Auspico Per il bene Della democrazia italiana Che lei sciolga Queste riserve Tra poco ritorniamo a parlare Di Biden E della guerra Aldo E questa cosa Ci porta anche al tuo libro Ma Oggi è di rama O ieri Non ricordo Sul fatto quotidiano Un'intervista Mi pare ieri In un'intervista A proposito di questo accordo Che sembra un po' farlocco Sull'Albania E sui migranti albanesi Risponde a una domanda Del giornalista Giacomo Salvini Che gli dice Ma Perché avete votato Contro Expo Roma Expo 2030 Insomma Dopo l'accordo con l'Albania La Meloni l'avrà presa Come un tradimento E è di rama Presidente albanese Dice Ma ci credeva proprio nessuno Al fatto che Roma potesse prendere L'Expo 2030 Era un voto sprecato E quindi noi abbiamo dato il voto Un paese utile Ma insomma Appunto Ci credevamo solo noi Di essere ancora padroni del mondo In qualche modo Roma è ormai L'immagine del declino Anche per il presidente albanese È stata una figura veramente barbina Che Roma non meritava È stata una candidatura Preparata male Su cui si è lavorato anche peggio All'evidenza L'Arabia Saudita Offriva di più E questo lo dico a loro discredito Perché la vera forza Degli Emirati Arabi Uniti Ma la stessa L'Arabia Saudita Ormai non è più il petrolio Ma è l'evasione fiscale Dell'Occidente Mi fa specie però Che anche Rama Nostro alleato e amico Ci abbia abbandonato In questa maniera Anche perché Rama Comunque si è fatto In qualche modo complice Di questa politica Di non accoglienza Del governo Meloni Che tra l'altro Contradice invece Proprio la storia culturale Del nostro paese Si poteva diventare romani Roma è diventato un impero Perché integrava Accoglieva Ha scelto come progenitore Enea Cioè un eroe sconfitto Un profugo Oggi diremmo un migrante Che scappa da una città in fiamme Con il padre sulle spalle E il figlio per mano E si poteva diventare romani Indipendentemente dal colore della pelle Dal posto da cui si veniva Dal dio che si pregava I romani non erano raffisti Se non nei confronti dei goti Oggi diremmo gli ariani O i crucchi Considerati troppo alti Troppo biondi E un po' sciocchi Scusa Visto che sei l'esperto qua di Roma Ce lo spieghi te Il post di Lollo Brigida Me lo fatevi vedere Marco Aurelio Con la citazione di Marco Aurelio Fatemelo vedere Perché Cioè Noi siamo rimasti un po' contraddetti Che il Ministro dell'Agricoltura Apra un posto contro di noi Diciamo Con una frase di Marco Aurelio Non so Dacci una Io ero rimasto E ho rimasto Al mio segnale Scatenate l'inferno Però mi piace anche La frase finale Del gladiatore Per restare in tema Marco Aurelio Come sai Era l'imperatore Che venne assassinato Da commodo del film Certo E alla fine Massimo X Meridio Dice C'era un sogno Che era Roma Sarà realizzato Il sogno romano Era la pace universale Era il governo del mondo Certo Con una potenza egemone Sangue Schiavitù Anche cose negative Però il sogno Di un governo del mondo Di una pace universale Di una comunità in pace Non perché debole Ma proprio perché forte Unita e coesa È un sogno A maggior ragione Adesso Che la guerra è tornata Alle nostre porte È un sogno Che vale la pena Essere sognato Ed è bello pensare Che sia nato Due mila anni fa Nel nostro paese Allora Pochissimi minuti Di pubblicità Con Massimo Giannini Aldo Cazzullo Parliamo di quello Che sta succedendo A livello internazionale E poi Cominceremo invece Un nuovo racconto Su Giulia Cecchettin E su quello Che sta succedendo Nel nostro paese Con questa Chiamiamola L'onda fucsia Comunque questa Questa onda Rivoluzionaria Di queste giovani Donne Che vogliono appunto La parità vera L'uguaglianza vera In questo paese Pochissimi minuti Allora Con Massimo Giannini E Aldo Cazzullo Vorrei Partire da questa immagine Qui Che ci restituisce L'idea di un mondo Veramente che sembra Non più tanto comprensibile Guardate Questo è Vladimir Putin Che ieri Arriva A Riyadh E ieri è stato Colto in pompa magna Prima a Riyadh Prima ad Abu Dhabi E poi a Riyadh E voglio ricordare Aldo che Insomma Questi sono i sauditi Celebrati da Renzi Per il rinascimento Per il rinascimento Per il rinascimento Nel mondo arabo Sono I principali Alleati Degli americani In chiave Anti Iran E anche Diciamo Quindi Distabilizzatori Sono i primi clienti Degli armamenti Americani E accolgono Putin Con cui fanno gli accordi Per i petroconi Insomma Sul petrolio Insomma E non solo Cioè Hanno assassinato A pezzi E hanno fatto fare a pezzi Caccioggi Che era un giornalista Che scriveva su Uno dei più grandi giornali americani Che era il Washington Post Siamo al trionfo Delle dittature Sulle democrazie Siamo al caos Che cosa È una fase In cui le dittature Stanno crescendo Le democrazie Arretrano E di qualche mese fa La foto del ministro Degli esteri cinese Che fa incontrare Il ministro degli esteri Iraniano E quello saudita E ci sta sfuggendo Un'iniziativa E mi colpisce Il fatto che L'altro giorno Il congresso americano Boccia gli aiuti All'Ucraina Cioè Capisco che Si tratta Bisogna cercare Una soluzione Alla guerra Russa-Ucraina Ma il modo migliore Non è dire Gli ucraini hanno rotto Le scatole Siamo stanchi Se la vedano loro È il contrario Dobbiamo ribadire Saremo al fianco Dell'Ucraina Sino alla fine Soltanto a queste condizioni Putin può pensare Di trattare Di trovare In qualche modo Una soluzione Se l'Occidente Abbandona l'Ucraina Vuol dire che Putin vince la guerra Questo è tutto inaccettabile Massimo Giannini Il più importante Settimana economica Forse del mondo The Economist Titola Putin sta vincendo E aggiungiamo Che Biden Non è riuscito A convincere Il congresso americano A rifinanziare Per adesso Le armi A Kiev E ora teme Addirittura Che Putin Attacchi Possa vincere Attaccare i paesi nato Siamo a un tornante Della storia Che magari Verrà completato Dalla vittoria di Trump Io ovviamente Sono terrorizzato Da questa prospettiva Però Su Putin Una cosa La dobbiamo dire Forse anche Un po' In chiave autocritica Autocritica Parlo dell'Occidente Ovviamente Forse ci siamo illusi Un po' Troppo presto Sulla sua capacità Di tenere insieme Un paese Immenso Pieno di contraddizioni Con le modalità Dittatoriali Che gli conosciamo Perché poi Non c'è bisogno Di essere Bin Salman Per fare a pezzi I giornalisti Basta arrestare Uno che manifesta Con un cartello in mano Navalny è lì A dimostrarlo Tuttavia Ha dimostrato Lo stesso Putin Una resilienza Che noi non immaginavamo Eravamo convinti Che le sanzioni Avrebbero messo In ginocchio La Russia E purtroppo Non è successo La Russia regge Ha sviluppato Un mercato Parallelo Per tutta la sua Vasta Attività energetica Che va dal petrolio Al gas Come sappiamo E anche dal punto Di vista bellico Purtroppo Insomma Ha avuto perdite Enormi Dal punto di vista Militare Però La controffensiva Ucraina Come sappiamo Non ha dato I frutti sperati E dunque Lo vediamo Riproporsi Come un protagonista Nella sfera Geostrategica Che si sta Ridisegnando Nel mondo Allora E' chiaro Che noi Che siamo Intimamente E orgogliosamente Convinti Del primato Delle liberal democrazie Le difendiamo Con le unghie E con i denti Però dobbiamo sapere Che purtroppo C'è più di metà Del mondo Che ha ricominciato A guardare All'Occidente Se non come a un nemico Come a un modello Decadente E in più Ci sono Diciamo Forze regionali Come è L'Arabia Saudita Ma ci potrei aggiungere La Turchia Lo stesso Iran Che giocano Il Qatar Su una scala più Modesta Che giocano Un ruolo Ambiguo Perché Da un lato Sono amici dell'America Ma dall'altro lato Trattano con la Cina Con la Russia E quindi è un mondo Che ci scappa Da tutte le parti Questo è il vero dramma E nessuno E nessuno ha in mano E' un'onda E' un'onda emotiva Pagino Che ha fatto un discorso Meraviglioso L'eroe civile Meraviglioso E che continua a tenere saldo Questo ancoraggio a valori Che non hanno nulla a che vedere Con l'odio Con la vendetta Nulla di tutto questo In un'occasione del genere Il fatto che non ci fossero Né rappresentanti del governo Detto altrimenti Giorgia Meloni La Presidente del Consiglio Né la leader dell'opposizione Devo però anche aggiungere E cioè Ellis Line E' gravissimo Secondo me Non si tratta di speculare Su una morte Ma di dare un senso A quello che è accaduto E soprattutto Assumere su di sé L'impegno Di fare in modo Che Giulia Non sia Una delle tante Poi arriva la prossima Ma da adesso in poi Cambia la strategia Cambia la politica Cambia il nostro orizzonte Culturale Ma anche operativo Cioè facciamo cose Rispondo con l'obiezione Che ti farebbero entrambe Giorgia Meloni Ed Ellis Line Giorgia Meloni Ti direbbe Non volevo diventare io La notizia Innescando eventuali Delle contestazioni Eventualmente Ellis Line Ti risponderebbe Non volevo Apparire come una Che voleva cavalcare E strumentalizzare Un funerale Un dolore privato Respingerei Con nettezza Sia l'una Che l'altra Obiezione Perché ripeto Il modo Con cui ci si sta Poi fa la differenza E quello che io temo Moltissimo Proprio per questa assenza Che secondo me È clamorosa È che pian piano Anche sui femminicidi Come succede peraltro Su un altro piano Con le morti sul lavoro Che se non ne muoiono cinque Vabbè ce n'è uno in più Cada il grande oblio Che è quello Che non deve succedere E questo perché Non accada però Dipende dalla politica Soprattutto dalla politica Oltre che da noi E da eroi civili Come Gino Senti Aldo Questo governo Ha secondo te Un problema Ad affrontare Il tema Della cultura Patriarcale dominante Beh sì Perché Ho sentito Troppi esponenti Di centro-destra Ma non soltanto loro Dire Ma la cosa Non mi riguarda Io non ho mai Picchiato una donna Non è che sono responsabile Di quello che fa Un matto Un altro Invece Gino Cecchettin Che ha avuto L'intelligenza Di capire Che quel terribile Dolore privato Era divenuto Anche un dolore pubblico E un lutto Di una generazione Di un paese Gino Cecchettin Senza puntare il dito Contro nessuno Ha detto Ha ricordato Che la responsabilità In qualche modo Ce l'abbiamo tutti Certo la responsabilità Penale è di una persona Ma in quanto uomini Noi dobbiamo farci Carco della questione Perché la questione Della violenza E in generale Delle mancanze Di rispetto Sulle donne Non riguarda Soltanto le donne Riguarda in primo luogo Gli uomini Che devono cambiare E fare cambiare Quelli che ancora Non accettano Un no o un basta Un rifiuto O un abbandono Coloro che si considerano Proprietari Del corpo Dell'anima Della donna E non sono disposti A riconoscere La sacrosanta libertà Della donna Di uscire con chi vuole Vestita come vuole Di sposare chi vuole E di amare chi vuole In Iran Chi ha paura Delle donne Le bastona Perché non portano il velo In Africa Chi ha paura Della libertà Delle donne Le mutila Finché non possano Provare piacere In Italia In Europa Ancora accade Che le donne Vengano uccise Violentate O magari Anche cose Che non sono Delle tragedie Ma mancanze di rispetto Moleste sull'autobus Ingiustizie sul lavoro Ricatti sessuali Ogni donna italiana Quasi ogni donna italiana Si porta dentro Un bagaglio di ferite Di offese Che magari diventano La sua forza Ma possono diventare Anche un ombra Che ti avvelena la vita E questo noi uomini Non lo dobbiamo consentire È troppo facile Indignarsi Quando tocca A tua sorella A tua mamma O a tua figlia Dobbiamo indignarci Sempre e comunque Grazie Stefano Massini A te Ci si domanda Sempre che cosa sia L'amore Io stasera Voglio farmi La domanda opposta Che cosa non è L'amore E allora ecco L'alfabeto Del non amore A come anestetico L'amore non è Un anestetico Se non vuoi soffrire Se non sei disposto Anche a restarci male L'amore non fa per te B come bellezza Bellezza L'amore non è bellezza A tutti i costi L'amore non è la bellezza Dei VIP Non è la bellezza Delle storie d'amore patinate Da rivista Non gliene frega niente All'amore delle riviste L'amore non è uno spot Pubblicitario C come controllo L'amore non è controllo Filippo Turetta Che chiede alla sorella Di Giulia Perché non accende il telefono Perché non mi manda i video Questo non è l'amore Questa è la Gestapo Questa è la Stasi Questa è la polizia militare L'amore non ha niente a che fare Con tutto questo Di come divieto L'amore non è mai un divieto L'amore non è mai un diktat L'amore è sempre una possibilità L'amore è il concetto stesso Della possibilità E come estensione L'amore non è mai un'estensione Dell'identità di qualcuno Su qualcun altro L'amore non è mai Una forma di colonialismo L'amore il colonialismo Non sa che cosa sia A F come fiaba L'amore non è streghe L'amore non è fate L'amore non è principesse Risvegliate da un lungo sonno Astenersi principi azzurro H come hotel Anzi prima ancora G come gara L'amore non è una gara Chi vince Chi perde Chi sta al piano superiore Chi sta al piano inferiore A Amore come ascensore No L'amore non è mai un ascensore H come hotel L'amore non è mai Una stanza d'hotel In cui siccome paghi Decidi la sistemazione Voglio la junior deluxe Voglio la suite Voglio la camera d'albergo Più bella La voglio affacciata al nord A sud Vista mare L'amore non è mai Qualcosa full optional I come idea L'amore non è mai un'idea L'amore è sempre concreto È fatto di corpi È fatto di persone È fatto di vite Idealizzare Mai L L come linea dritta Si vorrebbe che l'amore Fosse una linea dritta No L'amore non è una linea dritta L'amore è fatto di curve È fatto di salite È fatto di discese È fatto a volte Di rovinose cadute L'amore è come la vita Delle persone Che non è mai Una linea dritta M Come manipolazione L'amore non cambia mai Le carte in tavola L'amore non ritratta L'amore è sempre chiaro Netto Limpido Trasparente Altrimenti semplicemente Non è amore Allora che cos'è Boh non lo so Compro una vocale No non mi bastano Perché comunque Non la trovo la parola Poi la parola N N come narcosi L'amore non è mai Un addormentamento Non è mai qualcosa In cui ti puoi adagiare In un compromesso Che tanto mi protegge L'amore è sempre vivo O Come oggetto Oggi compriamo tutto Abbiamo trasformato in oggetti Qualunque cosa Ci siamo riempiti Le case di porcherie E pretendiamo che l'amore Sia l'ulteriore porcheria L'oggetto Avvolto nella plastica Avvolto nel cellofan Me lo porto a casa Con il Black Friday No l'amore non è mai questo P Come possesso L'amore non è mai Proprietà privata L'amore non è mai Aggettivo possessivo Il mio uomo La mia donna Mio 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 No l'amore non è mai Mio Q Q come quadrato Si pensa sempre che l'amore Sia una figura perfetta Una figura con i lati Perfettamente proporzionali Invece l'amore non è un quadrato L'amore è un poligono Complesso Nella sua complessità Nel suo mistero Nel suo enigma Sta la sua bellezza R Come rifiuto L'amore è anche rifiuto L'amore è il rischio Di essere rifiutati Di sentirsi dire no Fa parte del quadro Non ti piace Ti deve piacere lo stesso S Come servitù L'amore non è mai Una forma di sudditanza La schiavitù è stata abolita Negli Stati Uniti in America Il 18 dicembre del 1865 Perfavore non facciamo revival Tantomeno dentro le coppie Ti come trofeo L'amore non è mai una vetrina L'amore non è mai una coppa Da mostrare a qualcuno Io mi faccio vedere in giro con te E quindi sarò più bello Perché prendo luce Dalla tua bellezza Come se tu fossi un'automobile Oppure un paio di scarpe O un abito Che posso sfoggiare L'amore non è mai un trofeo Non è mai una coppa La coppa Davis L'ha vinta Sinner E la lasciamo a lui U Come unico senso L'amore non è mai un senso unico In cui puoi guidare tranquillo Tanto dall'altra direzione Non arriva niente Non arriva alcun'automobile L'amore è sempre una strada Dove si va avanti E anche dall'altra parte L'amore è sempre reciprocità Se non è reciproco Non è semplicemente amore V come vittima Ogni volta che c'è una vittima Semplicemente non c'è l'amore L'amore è vita E la parola vita ha in comune con la vittima Soltanto le prime tre lettere V, I, T Il resto no Z Z come zoo Gli animali che stanno nelle gabbie E che talvolta si adattano talmente tanto A stare nella gabbia Che ti sembrano pure felici E se restando là Dietro le sbarre Gli lanci la nocciolina E loro volentieri Se la mangiano L'amore non è mai una gabbia L'amore non è mai Adagiarsi dentro la gabbia Che altrimenti poi Quella è una storia d'amore Che finisce in cronaca E quando finisce in cronaca Esattamente come la Z Non finisce soltanto l'alfabeto Finiscono anche le parole E infatti io le ho finite Grazie a Stefano Massini Grazie a Massimo Giannini Grazie ad Aldo Cazzullo Beatrice Broglio A quel funerale c'era Non sto andando a fare un viaggio bello Sto andando a vedere qualcosa Che è la prova del fatto Che è successo qualcosa di orrendo Io dovevo essere su questo treno oggi Anche se non ci vorrei stare Vorrei andare in un posto bello Dove si celebra la vita Non dove si ricorda la vita Giulia non amava decidere Per niente E nemmeno il gusto del gelato Infatti faceva sempre a metà con la mamma Metà pizza a testa Se io prendo un gusto Tu prendi l'altro E poi ce lo scambiamo Giulia era la mia sorellina Ma era anche la mia sorella maggiore Giulia mi diceva cosa dovevo fare Quando non ero sicura E mi dava sempre ottimi consigli Che molto spesso non mi piacevano Perché non erano quello che speravo Di sentirmi dire Questo non è il momento Di mettersi da parte Dobbiamo continuare a camminare Dobbiamo continuare a farlo insieme E soltanto facendo così Soltanto facendo così Qualcosa può cambiare Abbiamo vissuto un momento Di profonda angoscia Ci ha travolto una tempesta terribile E anche adesso Questa pioggia di dolore Sembra non finire mai Questa è una storia comune Ed è per questo Che è così potente Perché è comune Perché parla a tanti Il femminicidio È spesso il risultato Di una cultura Che svaluta La vita delle donne Vittime proprio Di coloro Che avrebbero dovuto amarle E invece Sono state vessate Costrette a lunghi periodi Di abusi Fino a perdere completamente La loro libertà Prima di perdere anche la vita Come può accadere tutto questo Come è potuto accadere a Giulia Ci sono tante responsabilità Ma quella educativa Ci coinvolge tutti Quello che in questo momento Ci deve far riflettere È che per la prima volta È stata fatta una richiesta A grande voce Dai familiari di una delle vittime Di una delle tante vittime Ecco Io più di questo Non so di che cosa C'è bisogno Il padre di Giulia Ha usato un termine Molto chiaro Che è il termine Femminicidio Dobbiamo ancora Non parlare di patriarcato Il padre di Giulia Ha parlato Del patriarcato Della mascolinità Tossica Che porta Alla fine Della vita Di alcune Di questi ragazzi Io non so pregare Ma so sperare Voglio sperare Che tutta questa pioggia Di dolore Fecondi il terreno Delle nostre vite E voglio sperare Che un giorno Possa germogliare Addio Giulia Amore mio Allora Siamo abitato Tanto la telecamera Voglio semplicemente Leggere un messaggio Che è arrivato Dal portavoce Del presidente Di Sanonio Emiliano Arrigo Che dice Gentile Formigli Le ricordo Che al contrario Di quanto Da lei sostenuto Poco fa In trasmissione Lo scorso 25 aprile Il presidente La russa Era all'altare Della patria Assieme a tutte Le alte cariche Dello Stato Caro portavoce Del presidente Del senato Vorrei anche vedere Non era ovviamente A quella presenza Che mi riferivo Che non sarebbe potuta Non era evitabile In nessun modo Proprio perché C'erano le più alte cariche Dello Stato Compreso il presidente Della Repubblica Ma parlavo Delle manifestazioni Diciamo I famosi cortei Del 25 aprile Che hanno animato Straordinariamente Le grandi città D'Italia Mi sembra evidente Il riferimento Che stessi facendo Dunque Saluto Saluto Maria Rachele Ruiu Membro consiglio direttivo Pro vita e famiglia Buonasera Buonasera Saluto accanto a lei Leonardo Mendolicchio Psichiatra Autore tra l'altro Di un libro Fragili per solferire I nostri figli Generazioni tradita Che è un libro Molto bello E molto utile Per chi è genitore Soprattutto per capire Quello che sta succedendo I nostri figli Buonasera e benvenuto Buonasera Francesca Vidali L'abbiamo anche seguita Alla manifestazione Attivista contro la violenza Sulle donne Era appunto Al formale di Giulia Buonasera Buonasera anche a lei E Valeria Fonte Scrittrice Attivista contro la violenza Delle donne Molto diciamo Animata Sui social Per diciamo Portare avanti Le sue posizioni Saluto Francesco Adinolfi Che è presidente Il popolo della famiglia Buonasera Adinolfi Mario Adinolfi Mario Ho detto Francesco Che è un mio vecchio amico Dei tempi del manifesto E un collega Mario Adinolfi Scusami Mario E poi L'avvocato Anna Maria Berardiani De Pace Importante Avvocata Matrimonialista Buonasera Grazie di aver accettato Il nostro invito Allora Cominciamo Con una frase Brevissima Ma questo uomo Questo giro Un uomo straordinario Straordinario Il modo in cui si pone Nel modo appunto In cui evita Il linguaggio di odio Ma dice delle cose Molto importanti E molto chiare La prima è questa Ma mi rivolgo per primo Agli uomini Perché noi per primi Dovremmo dimostrare Di essere agenti Di cambiamento Contro la violenza Di genere Ecco Allora Io vorrei cominciare Da un uomo Da Leonardo Mendolicchio E vorrei chiedere Se è d'accordo Sul fatto che si debba Partire dall'educazione Degli uomini Su questo Il discorso È abbastanza complesso Io inizierei col dire Corrado Che tra uomini e donne C'è una grande differenza Rispetto a quello Che è accaduto Negli ultimi 30 anni Le donne hanno potuto Svolgere un percorso Evolutivo E di Riconfigurazione Del senso del femminile Attraverso tutta una serie Di battaglie Che ci sono state Appunto per il femminismo E quant'altro Gli uomini Non hanno avuto Questa possibilità Noi Abbiamo un'identità maschile Che è rimasta immutata Negli ultimi 300 anni Non c'è stato Un movimento Culturale Filosofico Sociale Anche politico Che ha messo Il maschile Al centro di un dibattito E al centro Di una riflessione Per cui probabilmente Uno dei grandi temi Che dovremmo affrontare Noi uomini Al di là Della questione Della violenza Poi sulla questione Della violenza Torniamo Perché la violenza Non è una questione Di genere Della violenza È una questione Di com'è fatto l'uomo Ricordiamoci Kubrick La famosa Scena Dello scimpanzè Che scaglia L'utensile Contro il suo simile Purtroppo la violenza È una questione Che è connaturata Con l'umanità Poi dovremmo parlare Del perché oggi Questa violenza È così libera Di agire Rispetto ad un tempo Detto questo Il rapporto tra i sessi È sempre un rapporto Complicato Ha sempre a che fare Con delle questioni Di potere Quello che a mio modesto avviso Non funziona oggi È che noi maschi Non abbiamo avuto La stessa possibilità Delle donne Di fare un processo Di dibattito E di evoluzione Sul senso del maschile Oggi il maschile Paga un deficit Di identità Paga Cioè non c'è stato Un movimento Di emancipazione maschile Come c'è stato Di femminile Quindi non c'è stata Un'elaborazione Del tema maschile È molto interessante A questo punto Aggiungo Valera Fonte Che c'è una cosa Che ci colpisce molto Cioè che Giorgia Meloni Non parla mai Agli uomini Parla alle donne No? Cioè dice Difendetevi meglio Chiamate il 1552 Il numero di emergenza Antiviolenze Che per carità È molto importante Sapere che è Questo numero 1552 Però Parla alle donne E non agli uomini Che cosa significa questo? Sì Significa Scegliere L'interlocutore sbagliato Significa Rivolgersi Alla parte oppressa Che ancora una volta Deve avere La responsabilità Sulle proprie spalle Della propria vita Della propria esistenza Sarebbe invece Importante Cambiare la prospettiva E parlare agli uomini No? Lo fa Check it in Lo abbiamo detto Qui adesso Gli uomini Hanno bisogno Di una identità nuova Il punto è che Noi abbiamo preso parola Anche per loro Noi abbiamo detto Ok Venite con noi in piazza Parliamone di quello che succede Ma la verità È che Gli uomini Ne sanno di più Di misandria Rispetto alle donne Gli uomini Sono quelli Che si spingono in guerra Agli uomini Scusate Qual è il numero Qual è il numero Sbagliato 1552 1522 Scusate L'absoluto mio È importante 1522 Ecco È importante Scusate 1522 Sì Dicevo che Dovrebbero essere gli uomini Di accorgersi Della potentissima misandria Di cui sono portatori Cioè dell'odio per gli uomini Sì 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 Dovrebbero insegnarci A questo punto Alle donne invece Bisognerebbe dire Ok Non è più il caso Di accettare Tutta questa merda È il caso di prendere posizione Di dire Ok Basta Non è più Una nostra responsabilità Prendetevi le vostre Responsabilità Maria Bernardini Pace Prego Allora Io non vedo Le donne oppresse Non vedo le donne Che accettano Noi donne Abbiamo Ha parlato benissimo Mendolicchio E ha spiegato esattamente La situazione Noi donne Abbiamo combattuto Abbiamo fatto di tutto Abbiamo raggiunto Degli importanti risultati Adesso è chiaro Che ognuna di noi Se la deve vedere Con la vita Con il mondo Con le persone Ognuna di noi Deve conquistarsi Il rispetto Perché non è che Il rispetto Ce lo regalano Io Non rispetto Una borseggiatrice Un ladro Uno struparatore Io rispetto Le persone Che meritano Il rispetto Non è un diritto E cosa vuol dire Noi donne Dobbiamo portare In piazza E aiutare Gli uomini A liberarsi Della misoginia Ma ognuno Si occupi Di se stesso È chiaro Che noi Genitori E tutti i genitori Devono educare Bene Maschi E femmine In ogni modo Anche prima A conquistarsi Il rispetto E poi A dare Avere rispetto Per gli altri Ma questo Atteggiamento Aggressivo È Gino Cecchettini Il padre Di Giulia A dire Gli uomini Devono sentirsi Parte del problema Il cambiamento Parte dagli uomini È vero Ma è vero È giusto Sì Sì Ma è diverso Da quello Che stava dicendo Questa ragazza Un conto È sentirsi Parte del problema È un conto Voler cambiare Certamente Con delle donne Così Aggressive Contro gli uomini E con questo Atteggiamento Non credo Che si ottengano Dei risultati I risultati Si ottengono Prima di tutto Se tutte le famiglie Padri e madri Sanno educare Secondo me Allo stesso modo Figlie E figli Anche se Dobbiamo tenere presente Che l'uguaglianza Giuridica È un conto Ma non sono Uguali Uomini E donne Ci sono le differenze E le differenze Devono essere Sottolineate Francesca Vuoi dire qualcosa Perché avere Questo atteggiamento Prego Credo che Questa narrazione Non ha molto funzionato Fino adesso Se ci troviamo ancora qui A fine del 2023 A parlare di patriarcato E di Violenza Di genere Quindi ecco Apprezzo Profondamente Il pensiero Dell'avvocato Però Credo che fino adesso Non abbia molto funzionato Questo approccio L'approccio Del singolo Io penso a me E io penso A come devo In qualche modo Identificarmi All'interno della società Come devo muovermi All'interno della società Io sono io Tu sei tu Di te non mi interessa Perché io penso a me Io sono bravo Non ha funzionato Fino adesso A noi Chiediamo semplicemente Chi con toni più pacati Chi con toni più accesi Chiediamo semplicemente Una condivisione Della responsabilità E condividere la responsabilità Alla base di ogni società civile Non viene chiesto agli uomini Né di dire Che sono tutti sbagliati E che tutti sono Colpevoli Ma Gli viene chiesto Di rendersi Di rendersi Partecipe del problema Perché se questo problema Cioè esiste Le ragazze muoiono È anche responsabilità Degli uomini Cioè non giriamoci intorno Questo è un programma politico È un programma politico Nel senso che parla di politica D'accordo Rui E quindi il tema La questione che ho posto Prima ad Aldo Cazzulla E a Giannini È Voi ritenete Che ci sia Ci sia in questo governo Quindi in questa cultura politica Espressa da questo governo Un problema Diciamo Nel combattere Una cultura patriarcale Quindi io vorrei Rimanere agganciato A quello che Trasmette Diciamo Oggi Questo sistema Di valori No Ai cittadini Alle donne E agli uomini E quindi Parliamo un momento di questo E ripartiamo Da Francesco Da Mario Eh dai Stasera sei Francesco Vabbè Tra l'altro Non è un nome Che ti sta neanche Particolarmente simpatico Diciamoci la verità Insomma Perché no È il mio papa È il tuo papa Ma non è proprio Il papa tuo preferito Ce ne hai avuti di meglio Di papa Dai diciamoci I papi sono tutti contestati Va bene Va bene Mario C'è un problema Di patriarcato Latente Diciamo Dentro questa cultura politica Che oggi ci sta governando Che è Destra Maschia Diciamo Anche in modo di porsi Nel linguaggio Insomma C'è la volontà Di trasformare Questa tragedia In un fatto politico Perché l'obiettivo È dare addosso Al governo Figurati Non mi becchi Di una giornata giusta Perché oggi ho visto Il ministro Valditara Indicare La mia amica E compagna Di legislatura Paola Concia Tra quelle Che andranno a fare La rieducazione Sessuale Nelle scuole E la organizzeranno Quindi Mi sembra Che anzi Questo governo Sia particolarmente Subalterno Perché Perché Paola Concia Perché Paola Concia È Omosessuale Perché sostiene Una chiarissima Educazione Gender Secondo Le direttive LGBT Secondo me Andare Nelle scuole Poi vanno le mie figlie A dover dare Quel tipo di direttiva E raccontarla Come Educazione All'affettività Mi sembra Un indottrinamento Di Stato Di cui francamente Come famiglia Farei Volentieri A meno Quindi il tema È tutto qui Chi crede Che ci debba Essere Lo Stato A Utilizzare Diciamo così Strumenti Educativi E inevitabilmente E coercitivi All'interno Dei contesti Ad esempio A partire Dalla scuola Con i bambini Da tre anni in su Per portare Dottrine A cui io Non credo E che credo Siano Assoluto Ciarpame E chi pensa Che invece Si debba Affrontare Il tema Della violenza Per dove La violenza Viene generata La violenza Viene generata A mio avviso Dal collasso Delle Agenzie Educative Questa è la verità La verità Che a scuola Non si apprende Più nulla La famiglia È stata demolita Non ci sono più I partiti politici È stata attaccata Anche la chiesa Il crollo Delle agenzie Educative Diceva il dottor Mendolicchi In un'altra Dasmissione Sono evaporate Lascia I ragazzi Completamente Privi Di punti di riferimento Tuttavia Si tratta Si tratta Di capire Si tratta Di capire Che modello Educativo Vogliamo Sempre se vogliamo Prendere Gino Cecchettin Come una bussola No? In questo Ma io non lo prendo Come una bussola Corrado La prendo io Il ricatto emotivo Non lo voglio subire Va bene La prendo Io non lo voglio subire Ma non è un ricatto emotivo Mi sembra Che deve diventare Un programma politico Ma non è un ricatto Un programma politico Non mi piace Non è un ricatto emotivo Nel senso che La frase che dice Gino Cecchettin Al funerale Secondo me È un contributo importante Vogliamo sentire La seconda pillola Che abbiamo selezionato Per piacere La prevenzione Della violenza Di genere Inizia nelle famiglie Ma continua Nelle allue scolastiche Alle istituzioni politiche Chiedono di mettere Da parte Le differenze ideologiche Per affrontare Unitariamente Il fragello Della violenza Di genere Mendolicchio Si chiama In campo La scuola Allora La scuola Cosa serve Fare a scuola Educazione sessuale O è ridicolo Abbiamo paura Di Paola Concia Perché è lesbica E possa trasmettere Ai bambini L'idea L'idea Diciamo Della diversità Della diversità Della differenza Di genere Noi secondo me Viviamo questa Emergenza educativa Giulio Cecchettini Il papà di Giulio Cecchettini Lo ha detto Gino Cecchettini Lo dice Quando parla Appunto Di emergenza educativa La delega Non funzionerà più Non ha funzionato E non funzionerà più Se noi pensiamo Di delegare Al mondo della scuola Il tema Dell'educazione Sentimentale Ci stiamo illudendo Per l'ennesima volta Di risolvere Un problema Che non si risolve In modo così semplice Io credo che Quello che noi vediamo Sotto gli occhi di tutti E se volete Ve l'elenco Gli indicatori Di scarsa qualità Della vita Di salute mentale pubblica Che gli italiani hanno Ve li posso elencare tutti Il grave problema È che noi abbiamo Un tessuto Sociale Anche politico Poi vorrei tornare Sulla politica Che ormai si è sfilacciato Non c'è una regia comune Su quale tipo Di identità E insegnamento In partire Agli adolescenti Voi Prendete TikTok Aprite TikTok Vedete le pagine Dei 17 anni 15 anni 16 anni Vi accorgete Che esiste Il cosiddetto Fenomeno malessere Dove per prima I ragazzi e le ragazze Inneggiano L'amore possessivo Allora Il tema È sicuramente Un tema Come dire Che ha a che fare Con un retroterra Culturale Maschilista Non sarà Non sarà la risoluzione Di questo problema Noi viviamo In un momento In cui all'interno Delle famiglie Degli italiani C'è un livello Di malessere Di aggressività E di violenza Enorme Chi mette la testa Per risolvere questo? La domanda Torno a essere politico Rui o Berardini De Pace In un paese In cui la Presidente Del Consiglio Dice Chiamatevi Presidente Del Consiglio In cui il Presidente Del Senato Dice Donne Prendete nota Come si fa La pasta Alla norma Per dire Piccolo segnale O che taglia Taglia i posti All'asilo Dentro il PNRR O che Diciamo Tassa maggiormente I pannolini Che servono Per i bambini Cioè In un paese In cui Alla fine Sostanzialmente Alla donna In cui Ricordiamolo Tutti i ruoli Apicali Nelle società Amministrate Dallo Stato Quasi tutte Sono in mano Agli uomini Il segnale Diciamo Che viene invocato Da Valeria Fonte O da Francesca Vidali Qual è? Io trovo Un cortocircuito In tutto questo Nel senso Che vogliamo parlare Di questo maschilismo No? E per esempio Non ho sentito Nelle trasmissioni Che hanno susseguito Quali sono quelli Anche agenti Che aiutano E sostengono Questo dominio Dell'uomo Sulle donne Penso Olli fans Penso La pornografia La pornografia La dipendenza Da pornografia Dovuta A questo combinato Disposto Tra i cellulari E l'accesso Quindi alla pornografia Penso A tutte quelle Pratiche Che sono lesive Del corpo Non lo voglio Non lo voglio E queste persone Nel vilipendio Che essere trans È una roba Che ti arriva A un certo punto Nella vita Un bambino A 2-3 anni È già trans Un bambino A 2-3 anni È già gay Che a scuola Si parli di questa roba È fondamentale Perché il bambino Cresce sapendo Che nella società Esistono delle persone Come lui E che non sono tutte persone Etero Che non sono tutte persone Maschio Femmina In questo binarismo Abissale Che vi spaventa così tanto Che cos'è la teoria gender È qualcosa che vi spaventa Così profondamente Che proprio non ce la fate Avete Inventate così tanti Nemici immaginari Che a un certo punto C'è da chiedervi E no Qual è la realtà Per voi A un certo punto No Qual è la cosa vera Che c'è di Nolfi Non ho capito Cosa c'è di vero Posso dire una cosa Come fai a dire Che esistono i bambini Transa a 2 anni Posso dire Come si fa a immaginare Una vita Sempre piegata Alle logiche Della ideologia E non della natura Della realtà Della verità Ma l'hai mai visto Un bambino A 2 anni Ma come fai a raccontare Questa roba Senza senso Questa si è Assoluta follia Ideologica Ed è la ragione Per cui in politica Poi molte donne Diventano non credibili Perché seguono Questo tipo di Stupidate Mario Però perdonami Mario Senza insultare Il tuo ragionamento Porterebbe a dire Che l'omosessualità È qualche cosa Che si può curare Come purtroppo Qualche pazzo Ha cercato di fare Non sono un bigotto E allora dai Lo sai bene Che c'è un elemento C'è un elemento Nell'omosessualità C'è un elemento innato C'è un elemento Che subentra Diciamo Già in tenere età E quindi Non è che tu puoi Mandarlo a scuola Dietro Sessualità Come qualche collega Diciamo Delle tue parti Vorrebbe fare Dai su E allora La scuola non si metta A fare ideologia Sui bambini di tre anni E non si metta A iniettare I blocchianti Della pubertà Come sta facendo Su centinaia Di bambini Di dieci E di undici anni Facciamo una cosa Allora scusate Però Un mozione d'ordine Berardino Di pace Lo so che vuole intervenire Lo so benissimo Dopo la pubblicità Allora ripartiamo Perché se Voi E' un po' disordinato Come siamo andati finora Ma il punto è Il punto è Scusate Se Noi Mettiamo Degli elementi Di disordine Dice In qualche modo Maria Adinolfi E anche la Rui Nella scuola Costruiamo Dei soggetti Confusi e deboli Va bene Questi soggetti Confusi e deboli Diventano pericolosi E' questo Che ci racconta Un manifesto Shock Di Casa Pound Me lo fate vedere E ne parliamo subito dopo Però arriviamo a questa Narrazione Me lo fate vedere Per cortesia Ma quale patriarcato Questo è il vostro uomo Rieducato Turetta Allora Questo manifesto Shock Affisso Da Casa Pound Movimento di estrema destra E' l'estrema conseguenza Di questo ragionamento Voi Infarcite di cultura gender I bambini Fin da piccoli Diventano dei Turetta Da grandi Perché sono uomini Deboli Con idee confuse Ne parliamo dopo La pubblicità Allora Avvocato Berrile Pace Vogliamo partire Da questo manifesto Di Casa Pound Manifesto Diciamo Di una cultura Completamente avversa Alla Diciamo Alla cultura gender All'idea Appunto Della fluidità Del genere sessuale Filippo Turetta Diventa Un Assassino Proprio Perché è stato Rieducato Dalla cultura gender Diciamo In cui Un maschio Non è un maschio Una donna Non è una donna Ma c'è tutto un casino Va bene Identitario Che costruisce Degli uomini Fragili E quindi violenti Allora Io lo trovo Orrendo Come manifesto Pur avendo Delle idee Non certamente Uguali Ma liberali Nel senso Che ognuno È libero Di dire Quello che vuole Allora Così come Prima dicevate Che è maschilista Farsi chiamare Il presidente Non è maschilismo Io Non amo per niente Farmi chiamare Avvocata Io sono Avvocato È un ruolo Il ruolo Per definizione È neutro Non voglio Essere scelta Perché sono femmina Voglio essere scelta Perché sono competente Nel mio ruolo La stessa cosa Suppongo Che abbia pensato La Meloni Quanto a questo fatto Della cultura La libera Identità Di genere Noi Siamo stati Anticipati Dall'America Dall'Inghilterra Che adesso In questo momento Sono in grandi ambasce Domani Uscirà sul foglio Un articolo Di Marina Terragni Che è Una femminista Radicale Nell'articolo Nel quale Spiegherà Che in America C'è Una rivolta In California C'è una rivolta Totale Nei confronti Di questo atteggiamento Le donne Vogliono i loro Spazi liberi Non accettano Che nei bagni Delle donne Entrino degli uomini Che si sentono donne Ma sono uomini Per esempio Eppure sono stati Anticipatori Di tutto questo Lo stesso In Inghilterra Il 90% Degli inglesi Vuole eliminare Queste Scuole Che così Queste lezioni Che così Da giovani Fanno cambiare Perché i bambini Comunque Sono dei genitori C'è la responsabilità Giuridica Dei genitori Sono i genitori Che devono poter Scegliere Non se un bambino E' maschio Femmina Gay O altro Ma a dargli Un'educazione Per cui A un certo punto Sia libero Di capirsi Di scegliere E di seguirsi E di seguire La propria Voglio sentire Francesca Vidali E poi le faccio Però un'obiezione Su questo Vidali Ma in primis Mi sento di dire Che Prima di tutto Volevo commentare L'immagine di Turetta Che ho trovato Tra l'altro Di una violenza inaudita I simboli Sono importanti E in questo momento Giulia dovrebbe diventare Un simbolo Non questo ragazzo Non lo chiamo mostro Non lo chiamo uomo Questo è un ragazzo Un ragazzo di 22 anni Che non è figlio Né della cultura gender Perché Ha più o meno Un'età simile alla mia Io ne ho 29 E io di gender a scuola Non ne ho mai parlato A casa mia Ne abbiamo iniziato a parlare Quando avevo 16 anni Quindi dubito Che lui sia il figlio Di una cultura gender Dubito Altra cosa Le famiglie Che tanto Viene millantato Insomma Che sono famiglie Nuove Fragili Perché educano i figli A questa diversità Imposta Ted Bundy Jeffrey Dahmer Pietro Pacciani Tutte questi erano figli Di famiglie Che imponevano La cultura gender Sui ragazzi Che in qualche modo Educavano a questa Diversità sfrontata Assolutamente no Lui è il frutto Di due cose La prima è La malattia mentale Il disagio mentale Il secondo è Una cultura Purtroppo Ahimè Patriarcale Patriarcale Che crea Delle enormi rotture In questi ragazzi Fragili E in quella fragilità Nasce la violenza Nasce la violenza E nasce l'odio E' d'accordo Con questa analisi Mendolicchio Cioè Da una parte Malattia mentale E dall'altra Patriarcato Il collegamento È complesso Dietro questo delitto Dietro questo efferrato delitto Ci sono ancora Tantissime cose Che noi dobbiamo capire Anche qui Io eviterei Di fare Strani cortocircuiti Su un evento Così tragico Quello che ha spinto Filippo Nel compiere Quest'atto Lo capiremo Fra un po' Non lo capisce Neanche Filippo Perché l'ha commesso Questo è falso Perdonatemi Qui non c'è di mezzo Né la salute mentale Né la fragilità Gli uomini violenti Non sono uomini Con problemi mentali O fragili Sono uomini Camaleontici Che vivono Una quotidianità Patriarcale Ma si vista Che sono forgiati Non dalla cultura Gender Che non esiste Ma dalla cultura Che voi Propinate Casomai siamo No Però se posso Posso Darei Una regola A noi Questo tavolo Dovremmo cercare Su questi argomenti Così seri Di non farne Questioni ideologiche Perché questo Non rispetta Le vittime Mi spiega Cosa significa Ideologico Per lei Lei sta facendo Una questione ideologica Dicendo che Non era malato di mente Chi ha detto Che Filippo Era malato di mente Avere questa No Stiamo parlando Di salute mentale Qual è il problema Allora lei sta facendo Una questione ideologica Su un caso Che neanche conosce Perché lei non sa Le motivazioni Che hanno portato All'omicidio Di questa ragazza No invece serve molto Quando tutti i femminici Sono accomunati Dalla stessa matrice Detto questo Sicuramente Chioretta Ha subito Un cortocircuito Emotivo Di un certo tipo Che probabilmente Si muove Su un substrato Culturale e sociale Di un certo tipo Perché come ci insegna La psichiatria Gli aspetti biopsicosociali Sono inscindibili Nella vita di ogni essere umano Dobbiamo capire Che cosa muove Le mani La violenza Di queste persone Nei confronti delle donne Farne una questione Ideologica Di cortocircuito Politico O ideologico Non serve Nel caso di specie Questo è un omicidio Ripeto Dal mio punto di vista Io mi sono anche occupato Di psichiatria forense Nella mia carriera Di medico psichiatra Ci sono tante cose Che dobbiamo ancora capire E non vorrei che adesso Si facciano battaglie di bandiera Su temi Che poi verranno Largamente superati Da questa storia Però noi ci troviamo Un enorme fenomeno politico Che tutte le persone Che sono Che hanno manifestato In questi giorni In queste settimane Per Giulia Cecchettin Hanno impugnato Un linguaggio politico Ci hanno detto In questo paese C'è un maschilismo Un patriarcato Chiamatelo come volete Che deve essere cambiato E quindi hanno attribuito Una motivazione Culturale Diciamo così Ancestrale A questo omicidio Questo è il tema Non c'è soltanto L'abbandono La solitudine O la fragilità Ma c'è una cultura Conculcata Conculcata Generazione dopo generazione Non sto dicendo La mia opposizione Questa è la loro posizione Di loro che sono andati Al funerale Che hanno partecipato Alle manifestazioni Che scrivono Tutti i giorni Sui blog C'è qualcosa Che pesa Su questi uomini E che Li spinge A considerare Le donne Cosa loro Un oggetto Sotto il loro controllo E questo è il punto Possibile che sia Tutto sbagliato In questa impostazione Che sta muovendo Centinaia di migliaia Di persone Oggi In Italia Mario Adinolfi Questo è il punto Io sono convinto Che il tema Infatti sia politico Che è stata utilizzata Questa tragedia Per costruire Una mobilitazione Politica Costruendo anche Parole d'ordine Slogan Un'identità Un'identità politica A mio avviso È tutto Ciarpame Questo è il problema Il patriarchiato Non esiste In questo paese Massimo Cacciari Lo ha spiegato Benissimo È da 500 anni Che è in crisi Il patriarcato E da 200 anni Non esiste Ve l'ha spiegato Su questa rete Massimo Cacciari E attenti bene Il tema Il tema è talmente Politico Corrado Che interroga La sinistra Interroga La sinistra Infatti Non cito a caso Massimo Cacciari C'è una sinistra Che ragiona E che si accorge Che non deve cedere A questa emotività E c'è un'altra sinistra Che invece va inseguendo Ogni volta Purtroppo anche La segreteria Del Partito Democratico Il movimentino Di turno Il bruciamo tutto Di turno E questo A mio avviso Comporta Poi Una assenza Di credibilità Della sinistra Mario Però c'è un tema Scusami Se noi diamo Una Come dire Un'accezione Abbastanza neutra Al termine patriarcato D'accordo Su cui ci dobbiamo intendere Ma è un termine Che ci siamo inventati Ascoltami Ascoltami Non è così Se noi per patriarcato Intendiamo Un fenomeno Sociale Ed economico Che individua Una nettissima Maggioranza Di uomini Nei posti di comando Nella società Nell'economia Nella politica Cioè Tutti uomini In ruoli dominanti Questa diventa Una società Evidentemente Patriarcale Cioè È di questo Di cui stiamo parlando Ma non lo è Ma non lo è Non lo è Nella dimensione Complessiva Di questo paese Basta molto meno Per spiegare L'esistenza L'esistenza Del patriarcato Quando finisce Lo stroloquio Abbiamo le italiane Dentro le classifiche Di queste donne Più potenti Vabbè Abbiamo le italiane Bisogna vedere Quante sono Le persone comuni E normali Che però contano Il presidente del consiglio Allora Mario Valeria Fonte Vuole Valeria Fonte Vuole educatamente Interloquire con te Prego È molto più semplice Spiegare La pervasività Del patriarcato Quindi vi chiedo Vi fa strano Chiamare Un'avvocata Avvocata O una cameriera Cameriera Perché cameriera Posso finire? Questi sono gli uomini Che ti parlano sopra Non ti restano finire Ti parla Questo è il patriarcato L'affazzo del patriarcato Vediamo quando Conosce Che forse si parla In due Quello è un monologo Non fare il patriarca Mario Il patriarca Non mi rispondere però Perché neanche posso fare Il subalterno Vedi Ecco Vedi che L'orgoglio maschile Vedi dai Quante filosofi Studiamo a scuola Quante storiche Studiamo a scuola Quante matematiche Studiamo a scuola Quante studiosi Studiamo a scuola Sembrate quelli Di potere operario Perché sono più bravi Sembrate quelli Di potere operario Perché abbiamo Un problema di rappresentazione A me sembra Un po' tutto scolato Che sarà dimenticata Come moda transitoria Questo siede Allora C'è qualche cosa Che sta succedendo In questo paese Anna Maria Bernardini De Pace Che non può essere A mio parere Semplicemente Qualificato Demansionato A Come dire Strumento politico Movimento politico Anche perché Le persone Che hanno partecipato Nelle piazze Non sono persone Tutte targate Allo stesso modo Tutt'altro Ci sono Intanto donne E uomini Poi ci sono persone Che non sono andate A votare Persone che voto Da una parte O dall'altra E soprattutto Sono molto E sono molto giovani Anna Maria Bernardini De Pace È una roba Che interroga La sinistra E la sinistra La sinistra La sinistra Se sta roba Mario Mario Ho fatto una domanda A Bernardini De Pace Fammela sentire Un attimo Prego Avvocata Allora È stata detta Questa parola Questa parola Chi è che mi ha chiamato Avvocata Corrado Lei che è così Intelligente È uno dei giornalisti Più intelligenti Non ha capito Che io amo Essere chiamata Avvocato L'ha detto Gliel'ho fatto Per provocarla Apposta Prego Lo so L'ho capito L'ho capito L'ho capito Perché lei è anche ironico Ma ognuno ha diritto Di farsi chiamare Come vuole Secondo me Non bisogna catalogare In ogni caso Questa parola Patriarcato È uscita Perché l'ha detta La sorella Di Giulia Ha detto Un figlio sano Del patriarcato A parte che secondo me Non è per niente sano Non so come Possa essere considerato Figlio del patriarcato Perché le famiglie Che abbiamo visto Non erano per niente Patriarcale Anzi Mi sembravano Orfane Del patriarcato Per niente Con atteggiamenti Maschilisti Né in una famiglia Né nell'altra famiglia Io ritengo Che invece Ci sia proprio Questo di problema Che si vuole A tutti i costi Catalogare Che ci sono Le donne Che anziché Esprimere La differenza Della loro emotività Pur la stessa Eguaglianza Sul piano giuridico Però c'è una differenza Tra essere uomini E essere donne Nella riservatezza Nel pudore Nella determinazione Se c'è una donna Al mondo Che non può essere Definita maschilista Sono io Che ho combattuto Tutte le battaglie Femministe Con pannella Che sono state in casa Con quattro uomini Tre fratelli E un padre E ho combattuto Per la mia libertà La mia indipendenza Non ho mai ceduto A un maschio Nella vita E quindi sono Profondamente femmina Ma in questo momento Secondo me Non ci sono Le battaglie Come il divorzio Come quella Sull'aborto Ecco io per esempio Sono antiabortista Però ho combattuto Di fianco a pannella Per l'aborto Perché ci deve essere La libertà di scelta Di qualsiasi donna E questo E questo è un punto importante E soprattutto Questo lo condivido molto Che uno può essere Essere antiabortista È una scelta È un diritto sacro Di una persona L'importante è che lo Stato Lascia la libertà Alla donna di scegliere È una scelta Assolutamente Non è una corcizione Di Stato Ci mancherebbe Ci mancherebbe altro Però vedevo Francesca Vidali Scuotere la testa Avvocato Sentiamo perché Queste giovani donne Qui Sono arrabbiate E a me dispiace Che vengano rinchiusi In un recinto ideologico Assolutamente O addirittura di partito Perché non mi pare Che sia questo il tema No C'è qualcosa di più profondo Francesca Vidali È comodo Rinchiudere Il dissenso Nel recinto ideologico Perché se io Ti etichetto Come l'estremista E l'attivista Che fa questo per vivere Quando io poi Esco e dico Ho tre lauree Un master di secondo livello Lavoro in un'azienda Biofarmaceutica E allora lì Inizia un attimino A crollare il tutto Io non voglio essere Rinchiuse in nessun recinto Però Quello che volevo dire All'avvocato Che io chiamo avvocato E difendo la libertà Dell'avvocato Di farsi chiamare avvocato Perché qui stanno Le basi per il femminismo Io sostengo la sua scelta Di essere chiamata Come crede Come vuole La sua libertà È la mia libertà Ma io difendo la sua Come lei difende la mia Però io quello che volevo dire a lei Questa narrazione del Sono sopravvissuta Perché ho lottato In questa famiglia Piena di uomini Io ho lottato Io non voglio più lottare Il mio diritto Di autodeterminarmi Deve essere un diritto Naturale Fondamentale E il diritto All'autodeterminazione È il diritto Alla vita E in questo momento Viene spesso Spezzato Da chi? Dalle mani Di uomini Di uomini Ahimè Che vivono Un forte disagio Io non la voglio più Questa narrativa Del devo lottare Perché io Se lotto Sono donna Ho lottato Contro gli uomini No Io voglio Che la mia libertà Sia un atto naturale Nemmeno guadagnato Un atto naturale Francesca Però Francesca però Sulla sua strada Però io sono Figlia di un'altra epoca Capisco Condivido Sì Condivido Pensi io Di che epoca Giurassica Sono rispetto a lei Ed è assolutamente Un'epoca fantastica Lei Non ha il diritto Lei non ha il diritto Di rimanere viva Se incontra Un pazzo Un cattivo Un violento Che la uccide Non è un diritto Bisogna autotutelarsi Bisogna capire Bisogna farsi rispettare La mia autotutela È stato studiare Formarmi E diventare cittadina del mondo Non basta Brava Non basta Anche la mia Brava Bravissima Anche la sua Però non può dire Io devo essere libera Di andare dove voglio Senza essere uccisa La può uccidere Un suo fidanzato Non di andare dove voglio Senza essere uccisa No No invece quello che dicono Le persone che più o meno Pensano di pensarla come lei Devo andare in giro nuda E nessuno mi deve toccare Devo essere ubriaca E nessuno mi deve trocare Devo essere drogata Non è così Noi donne Proprio perché siamo Abbiamo la parità Dobbiamo autotutelarci Sapere Con chi andare Con chi andare Siamo una dollaggino La miniconna è troppo Cosa dice Giambruno Cosa ci insegna Giambruno Che poi il lupo Ce lo cerchiamo Poverina che siamo Ah che ve lo cercate Il lupo Il lupo Lo provociamo Ma non è questo Ma è anche vero Ci sono anche quelle Che se la cercano Il capuccetto rosso Non ce l'hai cercata La mamma Le aveva detto La mamma aveva detto Di non andare nel bosco E lei è andata Dobbiamo ricominciare Iniziare a raccontare Le favole da piccoli No ma magari Possiamo insegnare Al lupo A non mangiare nessuno Magari possiamo Insegnare all'uomo A non Perché il lupo è quello Eh no Questo è falso Perché la violenza Ma non è una questione Di biologia È una questione culturale Ragazzi scendete Si è costruito Scendete dal pero Altro che questione culturale Io dal più sul pero Non ci sono mai Volgo ricordare Quello che diceva Il dottor Mendolicchio Prima È che L'uomo Non è quello Necessariamente Ma il percorso Diciamo Di emancipazione Dell'uomo Diciamo Dalle sue etare Ataviche Va bene Compreso diciamo L'abuso della violenza Corrado Diciamo Da possedere Avere il dominio Della forza È qualcosa Che ancora Non è stato compiuto 1915 Disagio della civiltà Sigmund Freud Freud risponde A una lettera Di Einstein Che gli dice Dopo La grande Sciagura Della prima guerra mondiale Si muovono venti Di una seconda guerra mondiale Einstein chiede a Freud Come mai L'uomo Non ha imparato La lezione E si prepara Un secondo conflitto Disastroso E Freud risponde Einstein dicendo Caro scienziato L'uomo Ha una sua Matrice violenta E sa che cosa Lo salva Sa cosa Permette all'uomo Di poter coesistere Con i suoi simili Costruendo cose magnifiche La possibilità Di stare Nella civiltà Nella società Nella collettività Nella condivisione Delle regole Nella condivisione Anche delle utopie È questo Quello che manca oggi La possibilità Di creare Un tessuto sociale Che regga L'umanità Nella direzione Più giusta Più solidale Più corretta E più rispettosa Della vita Perché c'è un diritto Che viene prima Del genere Ed è il diritto All'esistenza E anche di questo Ogni tanto noi Ce ne dimentichiamo Però Allora Colgo l'occasione Però E rilancio Per il blocco successivo Subito dopo la pubblicità C'è un manifesto Pro vita Sull'educazione a scuola Che è stato fatto E che vi mostreremo Tra poco Che è molto discutibile Secondo me Fa molto discutere Ce lo spiegherà lei Ruiu Volentieri Però se noi vogliamo Costruire diciamo Un mondo Che educhi Alle diversità E che crede Meccanismi di comprensione Di solidarietà Di stare insieme Anche tra persone Profondamente diverse Forse Torniamo al tema Della scuola Manifesti Come quello Che stiamo vedendo E che di cui dopo Discuteremo Forse Non aiutano No? Allora Vediamo Questo qui è il manifesto Del movimento Pro vita Stop gender E carriera Alias Contro chi vuole Confondere L'identità sessuale Dei bambini Nelle scuole Un bambino Con uno scarpone E una scarpa Da donna Vestito arcobaleno Con un calzino E una calza È un bambino Confuso No? Sì Oppure è un bambino Che invece Diciamo Viene Naturalmente Questa è un'immagine Caricaturale Educato A comprendere La complessità Del mondo E quindi essere più forte Pochissimi minuti Dopo la pubblicità Ci hanno vietato Di risporre I cartelloni Che avevamo preparato Come dissenso A questo evento Caro generale Sei tu A non essere normale Dire a una persona Che non è normale Non vuol dire Tu Vuol dire Che ha delle caratteristiche Che sono diverse Da quella Della moltitudine Della maggioranza Allora Prima di portarvi Nel magnifico mondo Di leggerale Vannacci Che immagino Sia uno Dei fari Di Mario Adinolfi No vero? No No? Meno male va Faccio parte Per me stesso Oggi Repubblica Mi definiva Con Stefano Baldolini Estremista Vetero Cattolico E ortodosso Quindi voglio dire Alle ragazze In studio Non mettetevi paura Se vi definiscono Estremiste Avete le vostre idee Sbagliate Io dell'estremismo Avrò sempre paura La storia insegna Comunque Prima di addendrarci Nel fantastico Fantasmagorico Mondo del generale Vannacci Dell'estremista Vannacci Dell'estremista Vannacci Vediamo questo manifesto Che ce lo descrive Ruiu E poi ce lo commenta Però anche Dottor Mendolicchio Diciamo Nelle sue implicazioni Psichiatrico-analitiche Allora vediamo Tre punti Molto semplici Prego C'è anche un sondaggio Che è stato fatto L'80% degli italiani Pensa che l'educazione sessuale Nelle scuole Non vada fatta E che l'educazione sessuale Educano i genitori Poi se ci sono qualche genitore In difficoltà Si sostengono E si accompagnano i genitori Questo della Educazione Al gender Al genere Che è usato in tantissimi paesi Tanto Non sta funzionando Cioè non porta ad essere più felice Ragazzi Anzi ci sono tantissimi ragazzi Che stanno tornando indietro Che sono stati confusi E che stanno soffrendo Le pene di questa educazione Non aiuta Contro la violenza Sulle donne Perché i paesi In cui si fa educazione sessuale In cui si fa educazione al genere Sono dei paesi Che sono Ai noi Perché mi dispiace Perché non è che se muoiono Le donne dalle altre parti Sono contenta Però dove muoiono più donne Dove ci sono più omicidi Di donne E non aiuta niente Allora io mi domando Se questa è una strategia Sbagliata per Contrabattere la violenza Contro le donne È una strategia Sbagliata per i bambini E per i ragazzi Perché laddove è stata fatta L'educazione Di genere Dove è stato Sponsorizzato L'approccio affermativo Che era quello che prima Cercavamo di Di baccagliare Senza Di riassumere Sono Questo approccio affermativo Non porta al benessere dei ragazzi Non porta alla felicità dei ragazzi E non porta Al benessere della società Perché dobbiamo portarla Cioè È stata fallimentare In Svezia In Inghilterra Perché dobbiamo portare qualcosa Che ha fallito Gli italiani non la vogliono Se noi pensiamo Che per evitare Diciamo Un maschio violento Si debba Già nel percorso formativo Fare Di un bambino Di un ragazzo Una persona Essere consapevole Della complessità Della diversità Delle diverse sensibilità Si studia la Costituzione Benissimo Un momento Chiedo a Mendolicchio Siamo sicuri che Delegare alle famiglie Tutto questo Sia sufficiente No Chiaro che no Perché la scuola Ha un ruolo Perché la scuola È Come dire Dovrebbe essere Super parte Se anche Immune Diciamo Da magari Quel baco Che invece Può essere Dentro una famiglia Perché esistono famiglie Che sono bacate O che hanno Diciamo Un'impronta ideologica Talmente forte Da plasmare i figli A proprio piacimento Anche al di là Di quello che invece È il bene del bambino Anche gli insegnanti Però la scuola Dovrebbe essere Diciamo la scuola Parliamo di una scuola Pubblica Di una buona scuola Dovrebbe essere Di fuori di questo Mendo Ricchio Allora Io sarò Impopolare Ma voglio essere Chiaro su questo tema Non mi nasconderò Dietro un dito E tra l'altro Parlerò di questo tema Dell'identità sessuale Dalla posizione Di un medico Di un terapeuta Che vede Tutti i giorni Adolescenti Che portano Questo tema Della sessualità Come qualcosa Di profondamente doloroso Perché Diciamoci che oggi C'è anche un grandissimo tema Rispetto alla sessualità Degli adolescenti Che Come dire Necessita di Riflessioni approfondite Non di essere liquidate Come dire Con posizioni Abbastanza pragmatiche O dogmatiche Iniziamo con dire Che la sessualità Non si insegna solo La sessualità Si scopre anche Allora Se noi non Aiutiamo I ragazzi A fare E le ragazze A fare Quei processi evolutivi Di scoperta Della sessualità E deleghiamo solo A una Conoscenza tecnica Delle diversità La maturità Affettiva Ed emotiva Ed è sessuale Di queste ragazze Di questi ragazzi Non ci sarà L'identità Sessuale Di una persona È un processo Che non muore mai È una cultura Che funziona Da questo punto di vista Consente a ogni singolo individuo Di vivere la propria sessualità Non come una questione Conflittuale Ma con la possibilità Di essere scoperta Tutti i giorni Per ognuno Di noi Dalla possibilità Di vivere Il grande enigma Della sessualità Che è un enigma Per tutti Nel modo migliore possibile Allora Se noi pensiamo Che Educare i ragazzini Alla diversità Risolve il problema Della scoperta Della sessualità Oggi i ragazzini Scoprono il sesso Aprendo un pc E collegandosi A siti Di pornografia Quanti di noi Genitori Di noi insegnanti Di noi medici Noi terapeuti Rettifichiamo Quell'insegnamento E questa è la domanda Allora Se Plurificare Come dire Ampliare L'identità Di genere Vuol dire Offrire Dal mio punto di vista Più fette di mercato Per vendere Più identità Come una economia Capitalista Vorrebbe E qui parlo Come dire Da uomo di sinistra Puro e duro Se Come dire Ampliare Le identità sessuali Vuol dire Ampliare anche un mercato Rispetto alla sessualità Io credo che questo Non sia un buon servigio Per le persone Se invece noi Agevoliamo I ragazzi A scoprire La sessualità E a imparare La sessualità In processi educativi Multipli Su diversi strati Con la tutela Delle diversità E con la tutela Anche della possibilità Ma questo si può fare a scuola Si fa anche a scuola Si fa anche a scuola Si fa anche in famiglia Il tema è creare Finalmente In questo paese Che ha una radice culturale Su questi temi E penso alla Montessori E penso a tutta la cultura italiana Che abbiamo Sulle aspetti educativi Un network educativo Vogliamo guardare avanti In questo paese Smetterla solo di buttarci La merda addosso E iniziare a pensare A un modello sociale Che funzioni Possiamo avere un'idea Di uno stato Che faccia crescere I nostri figli Sostenuti In un'identità Che sia la loro E questo è il tema Oppure dobbiamo solo Fare le battaglie E fare il tifo Per una parte O per l'altra Parlate con i ragazzini Adolescenti di oggi Che non sanno Qual è la loro sessualità Non la sanno Non la riconoscono Perché noi Non li consentiamo Di scoprire la sessualità Allora Chi ha Una Diciamo Un'idea Dei sessi E della sessualità Molto chiara E molto precisa È il generale Vannacci Il generale Vannacci Diciamo Lui È duro e puro Sa tutto E ha anche molto chiaro Il fatto che i femminicidi Non esistono E che il problema È diciamo La debolezza Che noi mettiamo Nei nostri figli smidollati Questo è un po' il tema Allora Alessio Lasta È andato A inseguirlo Un po' in giro Perché poi Generale È diventato generale Capo di Stato Maggiore Di non so cosa Insomma Era dietro comunque Una scrivania Però si è dato subito Il primo giorno Si è preso il permesso Perché ha visto Che c'era Un procedimento disciplinare A suo carico E quindi adesso È in aspettativa A presentare il suo libro Alessio Lasta È andato da lui Siamo al comune di Anagni Sopra c'è il generale Roberto Vannacci È la prima uscita pubblica Dopo la nomina A capo di Stato Maggiore Delle Forze Operative Terrestri Qui sotto La protesta delle donne Ci hanno vietato Di esporre i cartelloni Che avevamo preparato Come dissenso A questo evento Caro generale Sei tu A non essere normale Via i razzisti Gli omofobi I misogini Dalle istituzioni Il generale dice Che ci sono Gli uomini deboli Che commettono i femminicidi Non quelli forti Quindi il patriarcato Non esiste Vannacci Incarna il patriarcato Da un uomo di stato Cioè da uno che ricopre Una divisa E che è portatore Comunque Della voce collettiva Per me è inaccettabile Che un uomo Faccia una cosa del genere E che giustifichi Una forma di violenza Del genere Additandola A dei mollaccioni Ma che vuol dire Essere mollaccioni Io glielo vorrei chiedere Adesso a lui Che cosa vuol dire Per te Essere mollaccioni Ammazzare le donne Ma stiamo scherzando Ma questo porta una divisa Cioè è un uomo di potere È un uomo che ha peso Sul femminicidio Perché è uguale a un omicidio Secondo lei Perché lei non fa differenze Soprattutto per questo tipo di reato Che comporta Una violenza di genere Non vedo perché Un crimine perpetrato Contro una persona di un sesso Sia debba essere diverso Rispetto a un crimine perpetrato Contro una persona di un altro sesso Non ho mai riscontrato Una società Che possa Una famiglia Che possa considerarsi patriarcale Ovvero una famiglia Nella quale c'è un uomo Che opprime la donna Che la costringe A effettuare Determinate attività Che lei non vuole fare O che per esempio Limita la libertà Delle proprie figlie Per quanto riguarda L'istruzione Posso invece Intravedere Una sorta di patriarcato In quelle famiglie Di origine non italiane E non sapevo Che le diceva di Samana Di Samana e suo padre Esatto E le altre 105 Che invece in Italia Sono state ammazzate In quest'anno Lei dice che in nessuno Di questi casi Che sono stati classificati Come femminicidi Centra la matrice patriarcale Dal mio punto di vista Il patriarcato Centra assolutamente poco Dico invece un'altra cosa Che ho asserito Perché io non riesco a capirlo Se me lo spiega perché Diciamo a un padre Che ammazza una figlia Un marito Che ammazza una moglie Un fidanzato No Dice solo che non esiste Se lei non mi fa rispondere Ma significa perché non esiste Perché non vedo questa matrice Perché io vedo invece Un'altra matrice Che è quella dell'uomo debole Che è quello dell'uomo Che crede di amare Un'altra persona Ma nella realtà Ha una relazione Patologica con questa E quando questa Per qualche modo Questa relazione Si spezza Lui non sa più come vivere E ammazza quest'altra persona Questa donna E poi ammazza se stessa Perché è debole Perché è un uomo debole Un uomo debole È uno smidollato È una persona Che non è stata educata È un uomo forte chi è invece È colui che sa cadere E si sa rialzare Più forte di prima Come si cresce un uomo Un adolescente Che poi diventa un uomo forte Abituandolo A una società concorrenziale E una società Dove ognuno Si deve guadagnare Quello di cui ha bisogno Allora non avengono femminicidi Se vengono cresciuti maschi così Credo che ce ne sarebbero Molti di meno eventualmente Ah è che è l'inno nazionale Ecco Perché uscite? L'inno nazionale a bannacci Perché state uscendo? Per protesta Non è l'Italia Non è l'Italia Non è l'Italia Vabbè ma è l'inno nazionale Non è che è faccetta nera ragazzi L'inno nazionale Per chi pensa che i gai sono diversi Ce ne siamo andati via Perché l'inno nazionale Lo rispettiamo talmente tanto Che vederlo mortificato In questa maniera Ci ha fatto ribrezzo E ci ha fatto uscire dalla stanza Dire a una persona che non è normale Non vuol dire offendere Vuol dire che ha delle caratteristiche Che sono diverse Da quella della moltitudine E della maggioranza E lo si può dire Nei confronti delle caratteristiche fisiche Ma anche nei confronti dei gusti Quello che mi interessa oggi chiedere E cosa ne pensate voi Soprattutto voi donne Che siete qui Quando il generale Fa un'intervista Alla stampa Nel giorno del funerale Di Giulia Cecchettin E dice che il femminicidio È un omicidio come tutti gli altri E il patriarcato non c'entra È perfetta L'affermazione del generale Che quindi per lei Il femminicidio Non è esattamente C'entra assolutamente niente Non va a piacare Lei le domande Le deve fare il generale Non al pubblico Ma vai a casa tua Che è piazza purita E lì ci stai bene Ma ho fatto una domanda Non si possono far domande Siete per la libertà di pensiero È bagata la tua testa Allora il femminicidio È come un omicidio Sì è la stessa cosa C'è una matrice patriarcale O no Quando si ammazzano 105 donne Dall'inizio dell'anno La domanda è questa Non esiste Femminicidio O omicidio La vita di una donna Non vale più E non vale meno Rispetto a quella Di un uomo Quando un ragazzino Diventa mano a mano Adulto Mi fanno vedere La donna come un oggetto È un oggetto Di piacere Ma chi la fa Sta mercificazione Della donna Una visione patriarcale No È il commercio E chi lo alimenta Sto commercio Non sono i maschi Che lo propongono E ne fruiscono Guardi che ci sono Anche imprenditrici donne Che fanno le pubblicità A una saponetta E fanno vedere La donna nuda La colpa è anche Di noi donne E ma quali sono La colpa è di voler Sempre pensare E non essere in grado Di capire I segnali Di persone disturbate Le donne Devono Avere più Cognizione E capacità Di interpretare E smettere di fare Interpretare i segnali Del maschio Certo Non è che il maschio Invece deve cambiare Atteggiamento Di confronti Della donna Sono le donne Che devono interpretare I segnali Che le donne Devono capire Meglio E anche gli uomini Devo rispettare Avvocato Uno della destra Va beh però E' chiaro che è diventato Non di destra Che mi dispiace E litigo con loro Perché io Il mio nonno adorato Era un colonnello Dei carabinieri Ed era totalmente diverso Era serio Riservato Chiuso Io gli volevo insegnare Il cia 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 E diceva Io non posso Perché un carabinieri Non fa fare cose figli Le capisce Avvocato Pure lei Eh lo so Vabbè era mio nonno Era mio nonno Era mio nonno Io avevo 12 anni Ma a lei Questo Giannacci Vannacci Le piace La convince Questo Giannacci Vannacci Le piace No non tanto Perché No No è troppo esagerato Qualsiasi cosa dice Poi Io sono Una Ho scritto un libro Diritti diversi Ho protetto gli omosessuali Da quando avevo 14 anni L'atteggiamento Che a lui Nei confronti Degli omosessuali Le dà fastidio Le dà fastidio Così non mi piace Come Mi dà fastidio Come non mi piace Che si parli male Di Anna Paola Concia Perché è una donna Intelligentissima E non farebbe mai niente Per influenzare Col suo modo di essere Dei bambini Perché è una donna Buona e intelligente Allora Non bisogna essere Faziosi Bisogna essere Aperti Io stasera Ho apprezzato moltissimo La dottoressa Ruio Mi sono piaciute molto Le cose che ha detto Anche se io Non sono nella sua linea Bisogna essere aperti A tutti Mario Mario Adinolfi Scusami Te questo Questo Diciamo Vannacci A un certo punto Diventato Bussola Della destra Insomma Salvini Che lo vuole candidare Che segno è? È il segno Della Totale Insipienza Scorpione Forte L'avete inventato voi L'avete inventato voi Vannacci C'era niente Ma Un gruppo di giornalisti Si è innamorato Della mostrificazione Del generale E gli avete fatto vendere 300.000 copie Attenti Perché al prossimo giro Gli prende 2 milioni di voti Che se questo Fosse un minimo intelligente Ma politicamente intelligente Non è Altrimenti Non si candiderebbe mai Con Salvini Farebbe la lista propria È una lista propria Oggi Del panorama politico Varebbe 5 6 punti percentuali Tutti regalati da voi Attenzione Cioè cos'è La lista degli omofobi In Italia Sono 5% No 300.000 copie È di gran lunga Ma proprio di gran lunga Il libro politico Più venduto dell'anno Ed è uscito ad agosto Giorgia Meloni E stiamo dicendo Giorgia Meloni Ne ha vendute 36.000 Fatti i due conti E io un po' Queste cose Le colgo E chiediti Chi è che ha fatto vendere 300.000 copie A Vannacci Francesca Vidali Vuoi dire qualcosa? Ma io Se ci ripetete un attimo Vi troverete Responsabili Di questo tipo di successo Vidali È sempre una responsabilità nostra Della sinistra Delle donne Dei giovani È sempre una responsabilità nostra E noi ce la prendiamo Questa responsabilità Il prodotto di Vannacci Se non scrivevano Sul Corriere della Sera Vendeva 300.000 copie Certo Assolutamente Assolutamente Io ci tengo a ringraziare Il generale Così come tengo a ringraziare Mario Di Novo Fermo Calma Mario Mario Fammi sentire La Vidali Per piacere Mario Mario Io lo lascerei Continuare No no Prego Prego Ecco Ci tengo a ringraziare Sia il generale Vannacci Che Mario Di Nolfi Perché loro Paradossalmente Stanno diventando Dei simboli di femminismo Perché loro Sono In questo momento Ti candidano All'Europese E ti impegni ancora un po' Io No mi dispiace Mi dispiace Ho ancora troppo da studiare Ho ancora troppo da studiare Grazie Però apprezzo Ancora una volta Che ci sia un uomo Che non mi conosce Che mi dice Quello che devo fare Grazie mille No no Però io la stavo ringraziando La sua carriera Ma io la stavo ringraziando Però Vede Lei deve Ascoltare Nel momento in cui Dalla mia parte Arriva No Dici cose banali Dico cose banali Io la devo ringraziare Invece Perché io le assicuro Che domani No 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 La possiamo sentire Mario dai Mi annoi profondamente Mario Mario Mi dispiace Io non vorrei mai Che dicessero alle sue figlie Che la annoiano Qualcuno profondamente Mi dispiace molto questo E mi dispiace Se la sto annoiando Tuttavia Io ho la stessa libertà Che a lei In questo momento Di parlare Quindi se mi lascia finire Finisca una tragedia Le vere tragedie sono altre Ne abbiamo parlato Nell'ultimo mese In Italia Il fatto che lei Si metta in bocca a parole Come tragedia In questo momento Mi sembra veramente Poco carino Comunque io la ringrazio La ringrazio perché lei Sta diventando ancora una volta Il simbolo Del moto femminista Perché se io domani mattina Mi sveglierò ancora una volta Desiderosa di lottare Per cambiare le cose È grazie alle parole sue Del generale Vannacci Quindi domani mattina Lei si sveglierà Con questa consapevolezza Bene Bene Ultimo tema Che vorrei porre Ma è un giro rapido Scusate perché poi Dobbiamo andare avanti Parliamo Abbiamo una bellissima Inchiesta proprio su Salvini A proposito di Vannacci Riguarda Le centomila Firme raccolte Per Fare una legge Che obblighi Chi vuole fare L'interruzione volontaria Di gravidanza Ad ascoltare il battito Del cuoricino del feto Prima di decidere Cosa c'entra questo Con le donne Stiamo sempre nel campo Diciamo Della tutela Del diritto Della donna A interrompere La propria gravidanza Diciamo Secondo la propria volontà Ruju Lei immagino Sia una delle firmatarie Di questa Sì Ho firmato per quella legge Perché il mio Per un discorso Anche solo personale Il mio metterci la faccia In questo Nell'impegno pubblico Nasce dall'aver incontrato Tantissimo dolore Di donne Che avevano abortito Di aborto indotto Di aborto volontario E molte donne Alcune hanno detto Che non avevano avuto Altre possibilità E io mi trovo Mi domando Provo a domandare In maniera Però non in maniera provocatoria Proprio in maniera seria Se la questione delle donne Sull'aborto Debba semplicemente Chiudersi al momento Dell'aborto Perché io mi domando Quanto Cosa si fa Per le donne Costrette ad abortire Oggi in Italia Non c'è nessuna donna Che sia stata costretta A portare avanti Una gravidanza Per eventuali In applicazione Della 194 Ma ci sono tantissime donne Che sono state costrette Ad abortire Perché non è stato Loro proposto L'altra possibilità La possibilità Di portare avanti Una gravidanza Queste donne Che si sono rivolte Questo dolore Di queste donne Che non trova cittadinanza E questo dolore Di queste donne Che vengono ancora Oggi nel 2023 Nel 2023 Ancora si parla Di crumocellule Domanda Però mi scusi Lei pensa che quindi Far ascoltare Il cuoricino Dia un elemento Di consapevolezza Che la donna Non avrebbe da sé Io penso che fare Un counseling Completo Sull'aborto Nel quale anche Riconoscere il bambino Dentro la pancia Della mamma Sicuramente aiuta Anche raccontare A le donne Quelle che sono Le conseguenze fisiche In un minuto Valeria Fonte Francesca Evidentemente Non è probita Ma gli antiscelta Si preoccupano Più delle serrande Che dei nostri corpi Giusto? Voi tondebole Per le serrande Questa cosa Ma è una risposta Appuntuale Sempre di voi Io credo fortemente Che il problema Lei scese in piazza Il 25 Una domanda veloce No Perché non No Ok perfetto Allora Le dico perché Non è venuta Perché della violenza È bruciata da voi Perché della violenza Di genere Ne fa un suo manifesto Meno male che non c'è Anche questa È violenza di genere Anche far sentire Il battito del feto Il battito del feto Alle donne Che hanno scelto Di abortire È violenza di genere Questa roba La portate sulla coscienza Bernardine Pace Cosa vuole dire? In conclusione? Allora Io voglio dire Che in nessuna parte Della legge C'è scritto Che l'aborto È un diritto È una legge Che è stata fatta Perché ho partecipato Io A combattere Per questa legge Per depenalizzare Depenalizzare L'aborto Che era un reato E lo Stato Ha l'obbligo Di occuparsi Della donna Che chiede aiuto Sia per casomai Aiutarla A tenere il bambino In vita Sia per aiutarla Ad abortire Questa idea Di far sentire Il cuoricino Del bambino La trovo Di una crudeltà E di una violenza Assurda Per cui Spero che non passi Per quanto ammiri La dottoressa Rui Non riesco A seguirla Perché Mi fa caponare La pelle Piuttosto Io Dal momento Che abbiamo Da 15 anni In Italia L'affidamento Condiviso Per legge Io direi Che il padre Il presunto padre Il possibile padre Dovrebbe essere Anche lui Dovrebbe avere Il diritto Di dire la sua Sono d'accordo Devo chiudere Il bambino È di tutte e due Grazie Subito dopo la pubblicità Inchiesta Bomba Su Matteo Salvini Seguitela Ci vediamo Tra pochissimi minuti Io sono la tessera Numero 3 Della Lega Lo sai Numero 3 Bossi Miglio Bossi Io Ma perché Siamo tutti Incazzati con Salvini Questo Ma tu non sareste Incazzato Non è propositivo Quando tu Non sei propositivo In questo vuoto politico Rischi di naufragare Ma non ci sta Dissanguando Lo sai Allora Parliamo di politica E partiamo da Salvini Prima fatemi salutare Vittorio Sgarbi Sottosegretario Alla cultura Ancora al suo posto Sereno Dopo Tempeste Tempeste incredibili Lui al suo posto Ministro Sangiuliani Al suo posto Vediamo chi resisterà Fin in fondo E lui adesso è alla scala Lui è alla scala Io invece ho commentato Ma noi invece Siamo qua Invece che è alla scala Perché Insomma È un luogo alternativo Dove commentare la politica Francesco Tra l'altro Ha un libro da mostrarci Subito Facciamolo Ho mandato in libreria Michelangelo Sì Libro che chiude la trilogia Leonardo Raffaello Ed è il libro Di cui magari parleremo E oggi invece Ho inaugurato Luca Una mostra su Canova Presentando 12 sculture nuove Di Canova Gratis L'ha inaugurata Gratis Vice direttore Affington Post Ciao Alessandro Ciao Maura Gancitano Scrittrice e filosofa Buonasera È già stata con noi Qualche settimana fa E poi in collegamento Roberto Castelli Segretario Del Partito Popolare del Nord Che ha fondato L'ex ministro di giustizia Sottosegretario di infrastrutture Senatore della Lega Castelli Proprio in polemica Con la Lega Uscendo dalla Lega Buonasera Castelli Allora Buonasera Ricordiamo Ricordiamo Che esattamente Dieci anni fa Esattamente Dieci anni fa Salvini batteva bossi Alle primarie E si avviava Diciamo A diventare Leader Della Lega Insomma Sono passati dieci anni Oggi Salvini Minaccia La stabilità Del governo Meloni E i suoi equilibri In Europa Ma soprattutto Salvini Con la sua svolta radicale È ancora Saldo In sera La Lega Allora io Partirei facendomi vedere Un'inchiesta molto importante Di Alessio Lasta Cominciamo quindi poi Commentando quello che vedremo Alessio Lasta Popolo di Pontida Tutti insieme Salutiamo Il segretario federale Della Lega Matteo Pontida 17 settembre scorso Il capitano Chiama raccolto Il suo popolo Sa Che c'è un'emorragia Di voti Nella Lega Che molti sono scontenti E se ne sono andati Saluti E baci A chi ha fatto Altre scelte Noi Siamo La Grande Lega Per la prima volta in più di 30 anni Sul palco di Pontida Viene invitato un leader di partito straniero È Marine Le Pen La leader dell'estrema destra francese Con cui Salvini Vuole allearsi alle europee Viva l'Italia Viva l'Italia Viva la Lega Viva la Lega Viva il capitano Noi non siamo mai stati un partito di destra o di estrema destra Quanti voti perdi portando dentro questi Io arrivo da sinistra La mia famiglia è una famiglia di sinistra Con un padre del vecchio PCI Partigiano E a me stanno sulle balle questi Ha fatto dopo Stanno sulle balle Purtroppo Mettendosi assieme A La Le Pen Abbiamo anche Diciamo Il gruppo Di alternative I nipotini Da dove fu Io sono in questo partito Di più di 40 anni Vuol dire che si è sbagliato qualcosa Una riflessione Matteo Sorbini La deve fare A Firenze La Lega raduna le destre sovraniste di 13 paesi europei Oggi a Firenze ci sono gli amici dell'Europa Gli innamorati dell'Europa I difensori dell'Europa Non c'è la cosa nera, il cantiere nero C'è un'onda blu E allora ascoltiamola Quest'onda che è blu e non è nera Lottiamo per patria Lottiamo per famiglia Lottiamo per Dio Senza pazzi Senza malati come Frank Timmermans O Ursula von der Leyen Buongiorno Laudato Iesus Cristo In secula seculorum Amen Dio, onore, patria, fede, famiglia, proprietà, verità, dignità, giustizia e libertà Dopo lo scoppio della guerra in Ucraina Abbiamo detto Ma questa non è la nostra guerra Ma che follia L'Unione Europea è diventata un pericolo per l'Europa Ovunque i popoli hanno ragione di essere arrabbiati con l'immigrazione di massa Siamo a casa nostra E vogliamo rimanere A me spiacerebbe che qualcuno di centrodestra preferisse la sinistra ad alleati di centrodestra E ma questo qualcuno è il vicepresidente del PPE E Tajani, suo alleato qui in Italia E sbaglia Io fra Macron e Bardellà e la Le Pen non ho dubbi Su chi scegliere Quindi io faccio un invito al centrodestra unito in Italia A essere unito in Europa Quindi in Italia lei resta alleato e fedele a questo governo Che è per rimanere nella Nato e per inviare i soldi all'Ucraina Invece in Europa si allea con chi invece queste due cose non le vuole Se altri hanno idee diverse e liberi di sostenerle Per quello che mi riguarda L'appartenenza atlantica non è in discussione Ma se l'appartenenza atlantica non è in discussione Così come il sostegno all'Ucraina Resta il nervo scoperto dell'immigrazione Che era il core business del partito E ora delude i militanti Blocco navale Blocco navale L'Europa non è un'Europa Allora E chi sta governando oggi in Italia? Lo sa Voi Capito? E questo E va bene E va bene E va bene E lo diremo Ok i vostri militanti se ne vanno per questo motivo E di questo ci dobbiamo incazzare E di questo ci dobbiamo incazzare Quindi lei è un po' incazzata Ma andarsene non risolve niente Devi stare dentro incazzarti e fare casino E invece A leggere gli ultimi bilanci della Lega del 2022 Il casino stando dentro il partito Molti militanti non l'hanno fatto Gli introiti per le quote associative annuali Sono passati da 1.086.000 euro del 2021 A 733.211 del 2022 Un calo del 30% Soprattutto al nord Un militante su tre insomma Non ha rinnovato la tessera Una fuga di voti Andati altrove Circa due terzi mantengono il voto alla Lega E però c'è un 17% che non è poco È un elettore su sei Che ha votato la Lega di Salvini Alle politiche 2022 Ma oggi voterebbe Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni Immigrazione è tema forte storicamente Della Lega di Salvini L'elettorato vede una distanza Tra le promesse preelettorali E poi l'azione del governo in materia Secondo tema Ponte sullo stretto Due terzi dei voti della Lega Vengono dal nord Italia E quindi questo elettorato qui Fa un po' fatica a scaldarsi Per il progetto del Ponte sullo stretto Che vede come un progetto Che riguarda in fondo Un altro pezzo di Italia Forse era facile cinque anni fa Candidarsi con la Lega Oggi forse è il famiglio Che ha bisogno dei militanti A novembre L'unica festa della Lega in programma Era questa di Cucceglio Nel Canavese Si mangia e si beve 20 euro a testa Ma com'è che se ne vanno tutti Da sta Lega? Meno 44% in Lombardia Meno 28% in Piemonte Meno 43% in Emilia E vado avanti Guarda Secondo me Guarda La forza È proprio quando la gente Inizia ad andare via È lì Che ti ricostituisci Per essere forte Oggi Da un giorno all'altro Una battuta fatta magari male E un partito perde 10 punti per cento Sono d'accordo Chi le fa queste battute E da voi Chi le fa queste battute Ma non le fa Ma è il momento Ma no Ce la fa a dirlo Ma no Ma perché La chiudiamo qua Ma no Usiamo la domanda Tanto non fai delle domande Tu vuoi provocare No voglio capire No Tu vuoi capire Ma lei mi dice Ma scusate Non è che si mette in mezzo Lei Sto facendo un'intervista Non dobbiamo far Se è brutta Che vedono tutta Italia Che se ne va e scappa Non credo No ma non vado Se ne vanno verso altri partiti Non se ne vanno Fanno delle scelte E' diverso Io sono la tessera numero 3 Della Lega Lo sai Numero 3 Bossi Miglio Bossi Ma perché sono tutti incazzati Con Salini Questo è quello che ho scoperto Ma tu non saresti incazzato Dimmi onestamente Ma perché Cosa ha fatto Non è propositivo Quando tu non sei propositivo In questo vuoto politico Rischi di naufragare Hai sentito le proposte sostenibili In questo momento Per recuperare la gente Che non va a votare Che è quella che portiamo via La Melone almeno La Melone ci sta dissanguando Lo sai Ma com'è che E se ne vanno tutti Da sta Lega Perché se ne vanno Da Lega Uno su tre di te Dai dati che ho io E quando mi sento Con il segretario Lui fa anche così Come fa Salvini Così come fa Salvini No è che Quando si cresce insieme E' chiaro che Si prendono Un attimo Ma hai sentito dire dal palco Che c'è bisogno Di recuperare i territori L'avete detto qua Questo a me non mi risulta No non l'ha sentito No l'avete interpretato male Lei dice Un virgolettato Abbiamo un problema Con gli iscritti Con i tesseramenti Ma hai detto Madonna Mi ha mai detto Ma allora Queste che cosa sono Fake news Eccola l'agenzia Del 9 giugno scorso In cui la DN Kronos Riportava un virgolettato Dell'eurodeputato Panza Che ha sollevato Il problema Della bassa percentuale Dei rinnovi Dei rinnovi Delle iscrizioni al partito Ogni domanda che le faccio Non arriva mai una risposta Le ho chiesto Quali sono secondo lei I motivi di questo calo Che lei stesso ha certificato Dovrei essere un bravo politico Allora Perché non dovrebbe essere Un politico Che quando fai una domanda Non gli dà mai una risposta Dobbiamo parlare di idee Scusi scusi I bravi politici Sono quelli Quelli che non danno risposta Hai visto Ho detto Abbiamo tanti problemi Ce ne elenchi qualcuno? Ah non lo so Io vedo che ci sono i problemi E nelle roccaforti Della Lega al Nord Che si consuma Una specie di notte Dei lunghi coltelli Con una serie di epurazioni Contro chi Non si adegua Alla linea decisa Dal segretario E' andata così Anche per lui Fabrizio Boron Consigliere regionale In Veneto Trent'anni di militanza Nel partito Finiti con l'espulsione A giugno scorso Nello stesso momento In cui hanno espulso me Hanno espulso altri Quattro militanti di Padua Guarda caso Tutti delegati Al congresso Che avrebbero votato Al congresso Il congresso per eleggere Il segretario Regionale Della Lega Veneta E che colpa avrebbero avuto Questi altri quattro militanti Insieme a lei? Pensarla diversamente Ci siamo accorti Il giorno del congresso Che c'erano Nell'ultima settimana 50 militanti nuovi Nel mese antecedente Hanno iniziato A fare cosa? Espulsioni Di delegati Al congresso Decidere Chi poteva votare E chi non Voteva votare Lo sa Cosa ha detto Salvini Sul palco a Pontida Fatevelo voi L'applauso Perché ci avete messo Ore e ore Pagando di tasca vostra Una volta i militanti Pagavano di tasca loro Ormai da qualche anno I pullman Che portano Gli iscritti Vengono pagati Da contributi Che vengono versati Dagli istituzionali Così dentro Il partito Chiede contributi Ai consiglieri regionali Consiglieri regionali Parlamentari Euro parlamentari Eccola la lettera Del 27 luglio scorso In cui il partito Chiede un contributo Consigliato Pari a 700 euro Perché i costi Dei pullman Sono aumentati Il fatto di Pontida Con la Le Pen Noi siamo autonomisti Siamo identitari Autonomisti Ma non siete fascisti? Non ho mai stato Io guardi Io Mio nonno Ho fatto capo Di concentramento Quando mia nonna Scusa Si emoziona Lui si è salvato Solo perché Faceva il falegname Faceva i mobili Che piacevano Alle moglie O alle famiglie Di Gerarchi Di Gerarchi Non siamo quella cosa Che è stata rappresentata Sul palco di Pontida No? Con la Le Pen Non siamo quella cosa lì Restate Restate Lottate E la storia Ci darà ragione Lui è Paolo Grimoldi Ex segretario Della Lega Lombarda Un tempo Amicissimo Di Matteo Salvini Con cui Ha scalato il partito Oggi In aperta polemica Con il capitano Se vuoi capirci qualcosa Degli umori del nord Devi sentire lui Io sono ancora parte Della Lega Sono un tesserato Della Lega Manca Un'identità più spiccata Che la Lega Che la Lega Che la Lega in passato Aveva Quella Autonomista Federalista Che difendeva i territori Per ora le dicono Guardi che questa Lega Faceva il 3,9% Scarso E Salvini L'ha portata nel 2019 Al 34% I voti non si contano Ma si pesano Se tu hai anche il 2% Ma quei voti servono a qualcuno Per andare al governo Tu le cose che vuoi fare Le fai Qual è il principale Difetto Il principale pregio Di Matteo Salvini Lei che lo conosce da vicino Il pregio più grande che ha È che È una persona simpatica Il difetto più grande che ha È che è permaloso Cioè non gli si può dire niente Che si incazza Diciamo che tende a Non apprezzare Neanche le osservazioni costruttive Ci dice un nome Che potrebbe contendere La leadership Di Matteo Salvini Oggi In Lega No perché Li metterai in difficoltà Sì Tu prendi nei sondaggi Cioè I più amati Sono Fedriga Zaia Poi Giorgetti Poi Attilio Fontana Che cazzo C'ha il carisma Della mia tartaruga Cioè Attilio Fontana Ha superato il Salvini Per gradimento Tu are di quinto Cioè non è che serve Un politologo a capire Che se A capo della Lega Mettiamo Non dico il primo Il secondo Il terzo Magari i due voti In più o di pigli Vuol dire che allora Lo slogan Vince la squadra È una cagata Perché hai fatto la manifestazione Il 4 novembre? Noi abbiamo avuto sempre I parlamentari Che hanno fatto parte Del Copasir Se i servizi Che tu paghi Ti fanno la segnalazione A te governo Dicendo Guarda Se fai la manifestazione Il 4 novembre Con questo che sta succedendo C'è il rischio attentato Il governo responsabilmente Annulla Le celebrazioni vistose Salvini Decide Di fare la manifestazione Il 4 novembre Perché sperava Che succedesse anche qualcosa Perché così si piglia Con 3% in più Perché tu immagina Il musulmano di turno Che arriva lì A coltella 1 La gamba Mediaticamente Cosa succede? Vuol dire che politicamente Sei alla frutta La tua proposta Fa ridere i polli Anche l'Europa Perdonami Mi conviene votare Forza Italia Che al 99,9% Tornerà al governo Dell'Europa Perché fa parte Dei popolari Mi conviene votare La Meloni Che al 50% Andrà al governo Dell'Europa Perché fa parte Dei conservatori O mi conviene votare La Lega Che fa parte Di un gruppo Di scappati Di case nazisti Che sicuramente Come è stata l'opposizione Col 34% Sarà l'opposizione Anche dopo C'è niente Beh insomma Tosta l'inchiesta Vogliamo cominciare Vittorio Sgarbi È un ritratto Alterato Della realtà O Salvini È un problema Per questa maggioranza Anche nella sua polemica Con Tajani Con la Meloni Sul tema dell'Europa Portando questi personaggi Sul parco Ma non so Se sia un problema Per la maggioranza Mi pare che sia un problema Per la Lega Perché Quello che appare È un deficit Di capacità Di proposta Per avere il consenso Che il partito Ha avuto E potrà avere Io Non ho Ragioni Di Criticare Salvini All'interno del suo partito Ma tutti quelli Che abbiamo sentito Anche Castelli Che si muove Per conto suo Hanno evidentemente Un'issoddisfazione La quale Non so se questo Sia un suggerimento Potrebbe portare Un partito Come la Lega Che è un partito In qualche modo Che ha Una posizione Talvolta centrista E aperta Anche a una sinistra Che è antifascista Che lui evidentemente Tende a Cancellare Con il rispondimento Dalle penge Con gli altri Attraverso Una leadership Che potrebbe essere Affidata a Zaya Però Può Un leader Accettare Di fare questo tentativo Perché evidentemente Il consenso Che ha avuto Zaya Che ha battuto La Moretti In quell'occasione In cui lei era Contro di lui E sentivamo anche Di Federica È un dato oggettivo Cioè una figura Che è più capace Di aprire Lui divide Però certo Anche l'attuale premier Dei Paesi Bassi Ha una posizione Molto radicale Contro l'Islam Che è la posizione Che era della Fallaci Quindi su quella cosa Che ha ottenuto consenso Forse oggi è meno facile C'è una visione Quindi lui Ha una posizione Che il tempo Sembra non consentire Tutti i suoi Però Io non Che la Lega ci sia Mi pare importante E anche dentro il governo Che poi Quando vai da solo Tu deve prendere dei voti Che sono la prova Di quanto convince Il tuo partito Rispetto agli altri Questo è un problema reale Prima di sentire Il mio tavolo Voglio sentire Il senatore Castelli Insomma Cosa Cosa Pensa Di quello che ha visto Ma più di quello Che ho visto Vorrei dire Quello che penso Della parabola politica Che ha fatto Salvini In sintesi Molto grossolana Ricordo che La Lega Nasce Come Partito Difensore Della questione Settentrionale Difensore del Nord Difensore del federalismo E dell'autonomia Ricordo che abbiamo Avuto addirittura Un periodo Addirittura Secessionista Salvini Prende legittimamente Per carità Per chi viene eletto Dal congresso In maniera democratica Il potere E trasforma Questo partito In un partito Centralista Cancella Tutta La politica Del Nord Addirittura Cambia tutti i simboli Non c'è più il verde C'è il blu E' proibita La parola padania In via Bellerio E quindi diventa Un partito Ripeto Centralista Con oggi Alcune venature Meridionaliste Perché parla soltanto Del ponte di Messina E quindi a questo punto E' un partito Che a me personalmente Che ho ancora Quelle idee Di federalismo Di autonomia Questo partito Non interessa più Non interessa più a me A tutti coloro i quali Non aderito La mia iniziativa Perché ho fatto un partito Per essere libero Di dire le cose Ma secondo lei C'è una corsa Secondo lei C'è una corsa A recuperare i voti Della Meloni C'è una competizione A chi A questo punto Occupa La parte più destra E radicale Dello schieramento E beh E' chiaro Avendo Certo Avendo abbandonato Diciamo La posizione Autonomista Federalista Oggi La Lega E' costretta A combattere Sul terreno Del centralismo Conservatore Quindi Chi sta più A destra O comunque Si posiziona Nel centro-destra In un modo Per il quale Sembra che Poi arrivino i voti Però ricordo Che Come diceva prima Il vostro servizio La metà Degli iscritti È andato via Cosa voterà Questa metà Degli iscritti Si rifugierà Nel non voto Cercherà Un'offerta Politica Come quella Che noi Stiamo cercando Di costruire Ci sono Le elezioni Europee Molto importanti Si stanno Coagulando Alcune iniziative Basate Soprattutto Sull'Europa Dei popoli Basate Sulle autonomie Basate Sul superamento Gli stati centralisti Perché oggi Soffocano L'Europa Allora E' questo Diciamo E' questa la sfida Ed è questo il tema Per me Sì Però Borgonovo C'è una questione No Ci sono Questi personaggi Che lui porta sul palco Che sono I personaggi Che sono decisamente Indigesti Per un governo Parlo di AFD Gli estremisti tedeschi Gli estremisti Romeni I radicali francesi Sono decisamente indigesti Per la Meloni E per il governo Per la maggioranza Allora Che gioco sta giocando Salvini Ma intanto Questa gente E' un po' meno indigesta I suoi elettori Perché in questi personaggi Come le definiti A casa loro Prendono un sacco di voti Fino a prova contraria Al di là di quello Che diceva Grimoldi I voti si contano In democrazia Non si pesano Quelli che pesano i voti Vanno al governo Col 3% Grazie no Tra l'altro Io personalmente Preferisco molto Vedere la Le Pen Che vedere qualche altro Rigorista del Nord O altri personaggi Che a casa loro I voti non li prendono I loro partiti liberali O progressisti Cosiddetti Poi dopo vengono scaricati In Europa E si mettono a fare Il danno all'Italia Che è quello che abbiamo visto Negli ultimi anni Sinceramente Mi ricordo poche critiche Quando Salvini Era oltre il 30% Anzi mi sembra Che tutti lo applaudissero E tutti si tenessero I loro malumori La Lega È un partito Che ha avuto Tante stagioni Ha avuto anche Delle stagioni Di inchieste pesanti Dopo le quali È arrivato Salvini Che ha raccolto Un partito Io mi ricordo Maroni Su un palco di Pontida Con la scopa Che faceva Piazza Pulita Di qualcosa Che adesso Sembra che gli altri Impiangano Io capisco Castelli Che ha una storia Coerentissima Che io rispetto E stimo Ci siamo anche Visti personalmente E ha Si è preso Come dire Ha preso il coraggio E fa il suo partito Benissimo Quelli che oggi Attaccano Salvini Dopo averlo applaudito In ogni modo A me fanno un po' ridere E mi dispiace Anche sempre Questa tendenza Di voler Fare La destra La destra Per bene Perché Salvini Alla fine della fiera Non va mai bene Salvini ha cominciato A perdere voti Quando è entrato Nel governo Draghi Che è una cosa Che molti militanti Quella sì Che non hanno capito Non hanno capito Perché la Lega Che abbia votato A favore del Green Pass E delle restrizioni Non hanno capito Perché stesse Con quello che Fino all'altro giorno Probabilmente Salvini è iniziata a perdere voti Quando è uscito Da un governo Col papete Non rendendo comprensibile La scelta Ai suoi elettori Qua anche Darsi Evidentemente Aveva preso Evidentemente Ha fatto una mossa Politica Sbagliata Politica Politicante Come si dice Dopodiché Da un punto di vista Di proposta Di ideale Quello che Ha proposto Sull'immigrazione A differenza Dell'attuale governo Lo ha fatto E ci è finito A processo Quando Ha preso Una deriva Che tutti i giornali Presentabili Hanno definito Hanno guardato Con favore La Lega Che adesso Si comporta meglio Brutta invece La Meloni Che sta all'opposizione Poi Diventa il contrario Quando c'è la Meloni Nauge Allora si usa Salvini Per dire Mette in difficoltà La Meloni E viceversa Io sinceramente Preferisco Che a fare la destra Siano quelli di destra Poi la sinistra Fa la sinistra Alessandra Moretti Ma allora Io conosco abbastanza bene I personaggi Che avete Intervistato Perché erano Miei colleghi In consiglio regionale Nel 2015 Boron Adesso da re È deputato europeo Quello che posso dire Secondo il mio Modesto parere È che Salvini Rischia davvero Di portare All'irrilevanza Politica La Lega La Lega È sempre stato Un partito Di governo Governo Molte Delle regioni Oggi Ha delle posizioni Totalmente Incomprensibili Basate su una propaganda Abbastanza Banale Cioè Quando lui dice Buttiamo fuori Chi Diciamo È un usurpatore In Europa O i bugiardi D'Europa A quale Europa Si riferisce Quella che appunto Ha contribuito A salvare Milioni di vita Con il covid Quella che ha Stanziato per l'Italia I 200 miliardi Di next generation Di cui tra l'altro Lui come ministro Delle infrastrutture Sta beneficiando Quell'Europa Del Shur Che ha salvato I posti di lavoro E le casse integrazioni Oppure anche L'Europa Che adesso È contro Putin Di cui lui Celebrava La grandezza Fino a pochi mesi fa Allora È ridicolo Purtroppo E se ne stanno accorgendo Dirigenti E pezzi da 90 Perché Dara è uno Che è iscritto Alla Lega Da 40 anni È un antifascista Convinto E ovviamente Gli vengono i capelli Tutti bianchi Quando vede Che sul palco Viene celebrata Non solo La Le Pen Ma la destra Più atroce Non solo Mi vorrebbe spiegare Salvini Che Wilders L'attuale Diciamo Leader Che ha vinto in Olanda Diceva pochi mesi fa Che all'Italia Non avrebbe dato Un centesimo in più Cioè come fa a convivere Le bugie Hanno le gambe corte Prima o poi La verità Salta fuori Allora Prego Borgono Solo due cose A parte che io Questi milioni di vite Salvate Non li ho visti E non ho visto nemmeno I contratti Di questi meravigliosi vaccini Siglati con Pfizer Per cui c'è un'inchiesta Sulla von der Leyen Mi sembra Che quelli che Mi sembra Mi scusi Mi sembra Che quelli che Flertavano con i russi Tant'è che poi sono finiti Anche nei consigli Di amministrazione De compagnie russe Stessero saldamente A sinistra in questi anni E fossero tedeschi E mi sembra Che quelli che Invocavano il rigore Fossero i vostri alleati In Europa E continuano E continuano a farlo Se Salvini flirtasse Con i russi Non c'è dubbio Abbiamo Lo celebrava Putin Come uno dei Abbiamo grandi testimonianze Su Uomo Savoini Era diciamo Al metropon Frequentava Frequentava Dugin E tutto il mondo Putiniano Dai Comunque mi auguro Che lei non sia Un negazionista Del fatto che Il vaccino Abbia salvato Appunto Appunto Me lo auguro Che il vaccino Abbia salvato Un milione di vite Se lei dice di no Vuol dire che è un negazionista Tanto ormai Questa categoria Vi piace Ma perché allora Vuol dire che Il vaccino Non ha salvato Molte vite Mi accontenterei Senza fare giudizio Ma lo dice la scienza Non lo dico io La scienza può dire Quello che vuole Io senza Senza fare giudizi medici Che non mi competo Mi competo un giudizio politico Mi piacerebbe Che Ursula von der Leyen A voi gradita Mostrasse Eh gradita anche la Meloni Graditissima anche la Meloni Può essere gradita Fin che vuole Per me è un problema Più questo Sinceramente Che era le pen Sul palco di Salvini Mostrasse gli sms Che si è scambiata Col capo di Pfizer Va bene Questa cosa piace Discussione covid Ne parliamo Ne parliamo in un altro momento Adesso torna Maura Gancitano E poi Alessandro De Angel Spetterà le fila di questa prima Però io vorrei Insomma Noi mettiamo le inchieste Al centro del nostro tavolo Proprio per poter Vedere un ritratto Un po' più Diciamo Autentico Di quelle che sono Le dinamiche Quello che non si vede Che cosa si vede Da questa ricostruzione Allora Secondo me Questo tipo di scontento Da parte della base Cioè proprio Dei militanti Che stanno nella Lega Tantissimi anni C'era anche dieci anni fa Solo che Salvini Ha promesso Una svolta Che in qualche modo Poteva anche Dare un consenso Alla Lega Che non aveva prima Quindi non più la Lega Nord Che in qualche modo Soprattutto ai meridionali Ma anche Come dire Anche al governo Anche a Roma Cioè era una Lega Costantemente in conflitto Con Roma Che era Roma ladrona Dove c'era il governo Dove c'era il potere Salvini ha fatto questa svolta E sì Probabilmente Avendo acquisito Molto consenso Questa cosa è andata bene Però io credo Che questi dissapori Ci siano sempre stati Quello che è accaduto E le faccio un esempio Io vengo da Mazzara del Vallo Provincia di Trapani Quattro anni fa Ci sono state delle elezioni Il sindaco candidato Con la Lega Non ha vinto per 700 voti Oggi Quel sindaco Quel candidato sindaco È passato già A Fratelli d'Italia E questa cosa è accaduta In tantissimi comuni Del Meridione Comuni in cui In genere Il grande consenso C'erranno O Fratelli d'Italia O il Movimento 5 Stelle Movimento 5 Stelle Che ovviamente Sappiamo Ha avuto il suo consenso Nel 2022 Soprattutto grazie Alle questioni legate Al lavoro Al reddito di cittadinanza Quello che Ci sono delle questioni Legate a Selvini Intanto Non è propositivo Nel senso che Parla di questioni identitarie Ma le questioni identitarie In un momento economico Così difficile Non coinvolgono più Come prima Nel senso che Gli hanno fatto gioco Quando si parlava Del populismo Di questa internazionale Populista Ma le persone Vogliono sentir parlare Di lavoro Di sicurezza Di futuro Perché c'è una grandissima Incertezza Ci sono tante parti sociali Che ce l'hanno con lui I sindacati Tutto quello che è legato Ai trasporti E le infrastrutture Quando parla di Sud Parla di Ponte sullo Stretto E se facessimo un referendum In Sicilia Si vorrebbero Infrastrutture di prossimità Treni Strade Mobilità Non il Ponte sullo Stretto Quindi l'unica cosa Che propone per il Sud Non interessa al Sud Quindi abbiamo un Salvini E non conta niente in Europa Perché quando è stato Europarlamentare Salvini In Europa Era una marzelletta Nel senso che non si presentava Faceva un po' Un po' questa figura Che fa adesso Ora in confronto a Meloni A cui invece interessa Avere credibilità in Europa È chiaro che c'è Uno stridore In entrambe le parti E questo E questo è il punto Dello scontro No? Alessandro De Angelis E questo è il punto Innanzitutto collochiamo Corrado Salvini Nell'anno del Signore 2023 Salvini Nell'anno del Signore 2023 È un leader minore Che ha l'8% E che ha come obiettivo Quello di prendere E quello L'obiettivo di prendere Il 10% E che se non avesse Un discutibile Parcoscenico internazionale Diciamo Starebbe là A occuparsi Diciamo Di infrastrutture Mentre i grandi Parcoscenici Diciamo Li solca la Meloni Tra Washington Tornachiev E' un leader Val primo No Cioè Che parla Quell'elettorato Anche di Giorgia Meloni Per dire Lei ha bandorato No? Quella linea La lotta L'Unione Europea La lotta dura Senza paura Eccetera Eccetera E quindi si pone Come il guardiano Della rivoluzione Sovranista Cioè La figura Del guardiano Della rivoluzione E commoga A Firenze Una compagnia Per citare Il grande padre Dante Che piacerà A Vittorio Sgarbi Una compagnia Malvaggia Scempia Cioè Il sovranista Portoghese Me li sono appuntati Perché diciamo C'ho un rifiuto Mentale a memorizzare Perdonami Propone La rimozione Delle ovaie Per le donne Che hanno Abortito Il danese Si definisce Monarchico Il Fiammingo Vuole smantellare L'ONU Il Bulgaro Parla Degli americani Come delle fogne Giallo-brune Dell'ambasciata Americana Auguri Ora E quindi lui Diciamo In questa compagnia Dove sembra oggettivamente Un buon tempone Diciamo Che siano europeani Sul serio E cerca La sfida Da destra Ma qual è però Il punto La domanda Ma davvero Questa sfida Da destra Discutibile In queste parole È credibile Cioè Salvini È credibile Come autentico Sofranista O È tutto Chiacchiere E distintivo Perché quello Che fa Quest'operazione Qua È quello Che vota La manovra Sotto Dettatura Di Bruxelles Che esprime Il ministro Dell'economia Attentissima Agli equilibri Europei Che accetta L'aumento Delle bollette Perché lo accetta Il vincolo Europeo Salvini Accetta Tutti i vincoli Europei Che sul PNR Accetta I rilievi Dell'Europa Se io chiedo Un solo atto Di contestazione Politica Dal governo Di Salvini A Bruxelles Qual è? Perché la differenza È che questa compagnia Qui Di cui lui cerca Lui cerca Di intercettare Il vento altrui Perché questo vento C'è Non mi ha negato Wilders vince I nazisti tedeschi Prendono il 32% Nella Germania orientale La Repenne Il primo partito Ma lui è in grado Di intercettarlo Essendo al governo Come direbbe lui Succube di Bruxelles Gli extraprofitti Marcia indietro Insomma Non ha fatto Tutto chiacchiere Distintivo Dice Alessandro De Angelis Seconda parte Dell'inchiesta E la competizione Con la Meloni Di cui viene fuori In una maniera clamorosa E poi Continua a parlare Vediamo anche i sondaggi Se nel 2023 Celebriamo Una Pontida Con una marea di gente È perché Il popolo di Pontida Non si è Mai Arreso Ma quante persone C'erano Quest'anno A Pontida L'ufficio stampa Del partito Invia ai giornalisti Questo messaggio Via chat Manifestazione di Pontida 100.000 presenti Abbiamo le transenne Che delimitano E fanno vedere Che qui c'è un altro Spazio vuoto Dove non c'è folla Le transenne Si mettono Più a compattare Diciamo Alla folla Di fronte al palco Però c'è anche Una prova fotografica Che tra l'altro Ha postato Sui social L'ex ministro Castelli Che è anche Fuoriuscito dal partito Questa è la foto Di Pontida Di Pontida 2023 2023 E qui abbiamo 2019 Ed è la stessa prospettiva Qui è praticamente Tutto pieno Abbiamo utilizzato Un software molto semplice Tracciando i metri quadrati Sulla location Vista dall'alto Ti calcola automaticamente Quante persone ci sono E ci dà una stima Comunque di 32.000 persone Quante persone per metro quadro? 4 persone e mezzo 5 persone per metro quadrato Quindi le 100.000 persone Non ci possono stare Se ci trasferiamo Dalla realtà fisica Ai seguaci Della Lega Sui social Che cosa avviene? Allora Prima di tutto Prima di parlare di social Parliamo di una cosa Molto interessante Ed è l'analisi Del traffico di Wikipedia Ma perché analizziamo Wikipedia? Perché quando una persona Cerca informazioni Su un candidato Politico Su quello che sta facendo Il primo articolo Che ti compare È il suo profilo Di Wikipedia Questo grafico È il traffico Di Wikipedia Dall'insediamento Della Meloni Fino a Pochi giorni fa Quindi da ottobre 2022 Fino al 15 novembre 2023 Il colore viola È Giorgia Meloni Il traffico di Giorgia Meloni Il colore verde È quello di Matteo Salvini Come vedi ogni tanto C'ha delle piccole risalite Ma Giorgia Meloni Arriva a dei picchi Cioè Stiamo parlando Di 500 600 700% In più di traffico Rispetto a Matteo Salvini Invece che calcolare Il numero dei follower Se uno ha più o meno follower Quello che conta veramente Sono le interazioni Tu puoi avere 5 milioni di follower La Meloni 2 e mezzo Ma se la Meloni Genera più commenti E più like Più faccine arrabbiate Sotto un certo tema Sta creando Una discussione maggiore Attorno ai suoi poste E su Twitter Che è stato il primo cavallo Di battaglia Di tutta la macchina Di propaganda Diciamo Modello di Salvini E su Twitter La Meloni Ha dei numeri Anche qui Impressionanti Sembra di rivedere Wikipedia Che cosa è cambiato Anche negli slogan Della Lega E quello che si nota Che comunque Il suo core La sua base È al nord E ovviamente Il suo elettorato Quando vede Che spegne Su un ponte di Messina In rete In rete Si incazzano Sono stati I loro stessi Primi a fare dei meme Oggi tutto il giorno Sono stretto A montare il ponte Si scrive ponte E sullo stretto Si legge Ufficio di collocamento Lega La sua politica Di propaganda Molto aggressiva Di questi anni Dopo un po' stacca Allora Vediamo i sondaggi Mannheimer E poi Ti voglio chiedere Qualcosa sul governo Meloni Vittorio Sgarbi Allora Vediamo Tutta questa situazione Che abbiamo raccontato Come si traduce In termini di consenso Renato Mannheimer Con i sondaggi Eumetra Allora Mannheimer Parto con Con le intenzioni Di voto Li vediamo? Sì Benissimo Vediamo Primo cartello Vediamole Eh Mettete sullo schermo Grazie Mettetemelo sul grande Perché io sono un po' Cecatino Capite? E quindi Comunque vedo che c'è Un fratelli d'Italia Al 28,5% Ecco Ed è stabile Partito Democratico 19,3 E al momento Cinque Stelle Al 16 La Lega di Salvini Al 9,4 Cartello successivo Forza Italia Al 7,5 3,9 Azione di Calenda I Verdi Alla sinistra Al 3,4 Italia Viva di Renzi Al 3,1 E poi ci sono I più piccoli Europa Ema Bonino 2,6 Paragone 1,8 Noi moderati 1% E queste sono Le intenzioni di voto È tutto abbastanza Paludoso È fermo Non ci sono Grandi movimenti Per la verità La Meloni Aveva visto Un accrescimento Di fratelli d'Italia Fino a qualche settimana fa Che adesso Sembra Essersi Arrestato Però è tuttora forte È tuttora un partito Molto forte Allora vediamo Invece Questi Di specifici Poi era molto diminuita Adesso negli ultimi tempi Dopo il covid È un po' risalita C'è però Un 35% Più di un italiano Su tre Che non ha fiducia Nell'Europa Hanno più fiducia I giovani Negli anziani Hanno meno fiducia I partiti Di centro-destra Ma Vediamo Com'è cambiato E se è cambiato Questo giudizio Nel tempo Gli abbiamo visto Se Nell'ultimo Questi sono ancora I voti A fa vedere Che il centro-destra Ha una fiducia Del 63% Centro-sinistra C'è una fiducia Quasi bulgara Diciamo Nell'Unione C'è una fiducia Bulgara Va bene Andiamo al cartello successivo Andiamo al cartello successivo Il cartello successivo È Se l'Europa Ha portato Un beneficio O un danno Al nostro paese Allora Tanti Il 52% Dicono Beneficio Ma Quasi il 40% Dice danno Il che mostra Una Spaccatura Anche qui C'è una differenza Tra destra e sinistra Nel senso che Il centro-destra Tende a dire di più Che c'è Un Danno Verso il nostro paese Quindi abbiamo Una fiducia Maggioritaria Nell'Unione Europea Ma Anche Tanti Tanti Dubbi Che ci sono Bene Grazie Grazie a Renato Mannheimer Allora Vittorio Sgarbi Qui abbiamo Un governo Una Giorgia Meloni Circondata da Robusti Esponenti Di estrema destra Che hanno Un passato Anche bello Ardimentoso Nostalgico Che però Lei Cerca di Traghettare Diciamo In un'area Più affidabile Un po' più Moderata E questo è il tema Ce la farà Cioè Giorgia Meloni Oggi È una donna Di sistema È una donna È un'europeista È una che sta dentro Con la von der Leyen Con la Mezzola E ha questo Salvini All'estremo opposto Come la vedi tu? O è soltanto una tattica E alla fine Anche lei Era risucchiata Dalle spinte più estreme E più radicali Del suo partito? No Credo Mi pare evidente a tutti Che sia una statista Di grande rilievo E di grande peso E soprattutto Provenendo da un'esperienza Politica così marginale Raggiunto il risultato Che ha raggiunto Abbia mostrato Un grande equilibrio E abbia ottenuto Dei risultati importanti Per l'Italia E anche rispetto Ai propri alleati Quindi Quello che tu dici Mi sembra inevitabile Lei capisce Che una posizione estremistica Non può consentire Un'armonia con l'Europa Che possa cambiare Io non ho mai capito Per esempio Perché si parla Dell'Europa Come di un ente terzo L'Europa Siamo noi Che la costituiamo Noi aspettano l'Europa Che qualcosa Sono io l'Europa Quindi una riconoscenza Credo che sia giusto Immaginare Un diverso modo Di intendere Il rapporto Fra dignità nazionale E Europa E c'è quindi Un paradosso O una forma bizzarra Di interpretazione Di un ente Che ci dà Che non ci dà Che ci concede Dall'altro lato C'è Una posizione Come quella di Salvini Che tanto più La Meloni Si avvia Una posizione centrista Quanto più può sperare Di raccogliere Il consenso Di quelli che hanno Invece una visione Sovranista Quindi in questo momento Le europee ci diranno Qualcosa di interessante Il grande tema Il grande tema Però è Borgonovo Dice Borgonovo dice Sì però poi Quelli che prendono i voti Sono quelli che Presentano le posizioni Più estreme E questa questione Questa forza Dei sovranisti Dei nazionalisti Dei lutta destra Non si è affatto affievolita Non si è affievolita È forte È forte Perché sono anni Che va avanti così Se noi guardiamo Anche i partiti Che sono arrivati Oltre il 30% In Italia 5 stelle Con un certo tipo Di proposto Un certo tipo La Lega di Salvini La Lega di Salvini Adesso Fratelli d'Italia Anche Renzi però Anche Renzi È vero Che aveva una posizione Molto europeista In questi risultati Noi dovremmo vedere Quanto conta il peso Del singolo leader Che dopo un po' Tende a stufare Perché sei molto Concentrato sul personaggio Fai indigestione E poi scende Però È evidente Che c'è un dissenso Diffuso Rispetto a certi temi Che si vede Nel fatto che Un sacco di gente Non vada a votare In opinioni Sulle questioni Ad esempio L'immigrazione Che mi sembra Che anche a sinistra Non susciti Tanti entusiasmi Tant'è che a un certo punto La sinistra Con Minniti Dovete prendere Una strada Abbastanza rigida Di cui Salvini Successivamente Beneficiato Il problema Non è estremo Che cos'è estremo Questi qui sono alleati Della Lega Da anni Cioè non è che Li scopriamo Adesso Dico delle cose Monstruose Ma come si fa Ma come si fa Andare a dire Che bisogna Asportare le ovaie Da una donna Che ha abortito Ma neanche Nel 1300 Non so che cosa Ma neanche i talebani Lo fanno In Afghanistan Non lo fanno Questo signore E mi interessa poco Fatto sai Che questi qui Sono alleati loro Da un sacco di tempo A me risulta Che fino all'altro giorno Anche fratelli d'Italia Fosse descritto Come estrema destra Addirittura Paranazista Che nella Lega Si sia parlato Per anni Di addirio Arriva l'infiltrazione Dei nazisti Io tutti sti nazisti Al governo Se ci sono Si nascondono Proprio benissimo De Angelis Cangitano Qui c'è un punto Però specifico Che non c'è dubbio Che c'è questo vento Eccetera Ma il punto È la corrispondenza Però tra le parole E i fatti E il fatto che Sui fatti Scusate il gioco di parole C'è un'accettazione comune Di un doppio vincolo esterno Il vincolo atlantico Ed è un ribaltamento Di Salvini Clamoroso Rispetto alle sue lodi Di Putin Eccetera Anche la Meloni Lodo Putin Nella sua biografia E le compatibilità Di bilancio europeo Però dovresti essere soddisfatto Di questa cosa E infatti a me Certo Certo E dove sta il problema E certo Cioè il punto È parlamare di Salvini No il punto A me non sta bene Il vincolo atlantico Non mi sta bene Che si moderino Quando vado Ma a te dovresti essere soddisfatto Io sto facendo Se non ti piace Quando fa quello che dici tu Scusami Scusami Sto fotografando Una analisi Sto dicendo Che rispetto anche Ad altri sovranisti C'è un problema Di credibilità Dopodiché Credo che sia Diciamo che sia soddisfatto Io conto il giusto Sia un bene per il paese Che non siamo usciti Dall'Europa E allora Dov'è il tema Che siccome Questi vincoli Ti ingabbiano E non hai denari Da distribuire Non hai bilanci Da sforare Eccetera Il recupero identitario È a costo zero E dove è a costo zero Allora Salvini che va A dare la solidarietà Al gioielliere Perché deve suonare Uno spartito securitario Con il paradosso Che dà la solidarietà A uno che è stato condannato Applicando la sua legge Perché la sua legge Sulla legittima difesa Non prevede il far west Neanche lui lo prevede E quindi è stato condannato E sui migranti Dove? Bada bene Sui migranti Hanno fatto questa cosa Ridicola Diciamo con l'Albania Che non funziona Costa quattro volte Diciamo I centri in Italia Voglio vedere Se riescono a costruire I centri in Albania Non funziona come deterrente Ma sarà Diciamo Un incentivo All'immigrazione Ma anche lì Corrado Anche quella Dimostra Che non volevano Entrare in rotta Di collisione Con l'Europa Perché l'Europa Sull'immigrazione Ha delle responsabilità E allora Perché Giorgia Meloni Non è andata a Bruxelles Mandandoli al diavolo Perché l'Europa Fa orecchie da mercante Sull'immigrazione E sceglie l'Albania Perché sono succubi Dell'Europa Capisci Quindi fanno le chiacchiere Nei comizi Prima fammi sentire Un attimo Gancitano Perché Castelli 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 è distratto Mi sente Castelli Si Ha perso Ecco no No e mi ero distratto Perché vedete Io sento parlare sempre D'Europa Però Non gli piace Io credo che Per conoscere veramente Cos'è l'Europa E cosa fa l'Europa Bisogna essere stati In Europa Soprattutto Aver frequentato Le segrete stanze Della Commissione E del Consiglio D'Europa Dico segrete Perché non esistono Verbali Delle riunioni Che si fanno lì Io ci sono stato Otto anni Ma non mi sono bastati Otto anni Per capire Chi fossero i veri Sovranisti In Europa Ci sono due Mi sono bastati Sei mesi Ci sono due nazioni Due stati Che sono assolutamente Sovranisti Ma naturalmente Come lupi Travestiti da Agnello Si dichiarano Molto europei Che sono Francia E soprattutto Germania In Europa Si fa quello Che decide la Germania E spesso La Germania E Francia Decidono cose Che sono contrarie All'interesse nazionale E allora io credo Che bisogna spezzare Questa cosa E soprattutto spezzare La narrazione Che ho sentito Anche stasera In cui l'Europa 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 Non esiste Esistono degli stati Che cercano Di fare il proprio interesse E ci sono alcuni Che lo fanno Molto meglio Di altri E allora Le prossime elezioni Saranno importantissime Per spezzare Moretti Può spezzare Questo diabolico legame Anche i sovranisti Allora In fondo Quelli che stavano Sul palco Sul palco Di Salvini Piacciono anche a lei Castelli Perché la Germania La Germania Prima di tutto Fa il proprio interesse Ma dicevo Poi dice che Il proprio interesse Coincide con Alla fine Quelli dell'AfD O quelli Che stavano Sul palco Di Salvini Piacevano anche a lei Insomma No Quelli che l'Europa La vogliono mandare Al dialogo Ma no ma Scusi Scusi Formigli Ma ha fatto sorridere Una cosa Qualcuno ha detto Con scandalo Qualcuno è persino Monarchico Guardate che in Europa Sono forse Più le monarchie Dalle repubbliche E allora Prima di dire cose Così Campate in aria Portate Ognuno ha la sua idea Io ho la mia Cioè se L'Europa è quella Che descrive Castelli E cioè dove Comanda Appunto prevalentemente Francia e Germania È perché l'Italia Castelli Probabilmente oggi È molto debole Quindi in Europa Non conta nulla Ma non conta nulla Perché c'è un governo Che probabilmente Fa tanta propaganda Ma che nei piani Nei tavoli Europei Non c'è Io credo Che da questo punto di vista Invece La vera battaglia Si deve fare In Europa E la Meloni L'ha capito Tanto è vero Che ad essere isolato In Europa È proprio Salvini Che appunto diventa Che appunto diventa Sempre più irrilevante Quindi la Meloni La Meloni europeista Ci crede anche lei Ma è chiaro Perché per non essere isolati Bisogna sempre dire Un attimo Un attimo Scusa Un attimo Castelli Un attimo Un attimo Moretti scusi Quindi la Moretti europeista Amica della von der Leyen Amica della Mezzola Presidente È credibile No perché Non la Moretti europeista La Meloni La Meloni ho detto Scusi La Meloni La Meloni Lapsus Quante si confondono È credibile No No allora È certo Perché se lei vuole ottenere qualcosa E vuole comunque contare Niente Castelli Ma diciamo di no Qualche volta Allora Se la Meloni Vuole contare in Europa E ha capito Che per contare in Europa Deve necessariamente Agganciare Ursula von der Leyen E Mezzola Che intanto Sono venute Infatti A darle pieno sostegno Lei ha capito benissimo Che si deve Allontanare Da quelli Con cui lei Faceva alleanze Anche in Europa E diventare centrista Cioè ha capito Che per contare Deve cambiare Totalmente La von der Leyen Ha anche bisogno Dei voti della Meloni Cioè Questo è un po' Un complesso No Sì No C'è sempre loro Che ci guardano dall'alto E noi che ci avviciniamo Questa qui È venuta qua La Meloni La Meloni ha fatto Però Un'inversione di marcia Totale Dopodiché È chiaro che la von der Leyen A livello opportunistico Perché ha bisogno Di questi brutti Cattivi di destra Dopodiché Dopodiché Su tutte le partite vere In cui il PD dice Che dobbiamo cambiare Le norme Sull'immigrazione Perché non è giusto Che la responsabilità Cada solo sulle spalle Dell'Italia La Meloni E il suo gruppo E Salvini non ne parliamo Votano contrariamente Cioè Modifica Il fatto di Dublino Infatti Quindi noi vogliamo Governare Il fenomeno De Giranti Ma invece Lo vogliono subire Allora Quello che è in gioco Evidentemente Le sue posizioni Sono cambiate Nell'ultimo anno Probabilmente Non se l'aspettava Né la parte Dell'elettorato Che l'ha votata Ma neanche quella Che non l'ha votata Che cambiassero In questo modo Perché ha cercato Di creare delle relazioni Anche partendo Da basi Molto negative Per esempio Quelle con Macron Ma anche Appunto Von der Leyen Anche poca credibilità E ha lavorato Molto in quel senso Quello che c'è da capire È se l'elettorato Che l'ha votata In realtà Voleva questo cambiamento Questo lo capiremo Con le elezioni europee Lo vedremo già L'elezione europea Perché potrebbe essere percepito E io credo Che sia percepito Da parte di quell'elettorato Come un'inversione E un'integrazione In un sistema Lei diceva Che voleva distruggerlo Perché lei ha detto Dobbiamo uscire dall'euro L'Europa è cattiva L'Europa non siamo noi Adesso invece Fa lo stesso gioco Perché sta cambiando Insisto Insisto Su una cosa Vi voglio vedere Perché oggi è successa Una cosa interessante Che io ho mandato Una mia inviata Nel paese di origine Del ministro Lollobrigi Dal ministro Cognato Che si è subiaco Perché l'ABC del giornalismo CPS Spiega che quando si fa Un ritratto Pezzo di un politico Si va anche nel posto Dove è nato Dove è cresciuto politicamente La mia bravissima benvenuta È andata là Apriti cielo Tra l'altro informando Lo staff Che sarebbe andato Intervistato il sindaco Di Fratelli d'Italia Apriti cielo Il ministro Lollobrigi Da esce con Un post che si apre Intanto con la citazione Imperiale di Marco Aurelio Se non è giusto Non farlo Se non è vero Non dirlo Quindi già si parte Diciamo Abbastanza carichi Perché Marco Aurelio Mica è l'ultimo Che passava Marco Aurelio Dopodiché il post Recita così Mi raccontano Che i soliti giornalisti Hanno passato L'intera giornata Subbiaco Il mio paese A intervistare Amministratori e cittadini Sulla mia vita I miei amici La mia famiglia Lasciando il numero telefonico Alle persone nei bar Come i detective Nei filmetti americani Sperbi Abbiamo mangiato bene Per molti di loro L'informazione è insulto Fango Pettegolezzi Notizie distorte A piacimento Ma alla fine La verità è una E non la puoi nascondere A lungo In potenza Delle sinistre italiane Non hanno idee credibili Si riducono a rovistare Dovunque a testa bassa Ma il popolo Insomma Alla fine Ci vorrà Allora no Dico Alla fine Dico Noi ci troviamo di fronte A una premier Che si sforza Diciamo Di invece Entrare nel gioco Nel gioco Diciamo Delle istituzioni Dell'Europa E si trova circondata Da persone Che ragionano ancora Un po' Come se fossero Una ridotta Diciamo Della seconda guerra mondiale Capito Allora Dall'altra parte Allora Dalla parte di quegli attivi Allora Si trova circondata Non è un attenuante Ma è un aggravante Nel senso Si è circondata Nel senso Che si è circondata E come diceva La mia saggia nonna Dimmi co chi vai E ti divo chi sei Ora questo post Scusa Non voglio fare Una solidarietà Di circostanza Ma è tecnicamente Delivante Perché no Innanzitutto C'è un genere nuovo Corrado Che è una notizia Facciatelo questo post Facciatelo vedere È la smentita Insulto preventiva Perché magari Il pezzo Si è neanche fatto Perché magari La tua giornalista Andava là Incrociava il barista Di Subbiacola Vicina di casa E diceva No L'obbligita è fantastico È più amichevole del mondo È sempre disponibile Magari in pubblico Ogni tanto Sì Fermai i treni La sostituzione etnica Però Come aiuta Mio figlio Lo va No E quindi Magari usciva Un bel ritratto Invece lui dice Sono andati È fango Cioè Non è uscito Il ritratto Ma è fango Quindi è una smentita Preventiva Perché non è uscito È fango Secondo Secondo Perché era bellissimo E lui l'ha censurato Secondo C'è l'equiparazione E questa è indicativa Di una cultura Insofferta Tra L'equiparazione Tra il giornalista E la sinistra politica Cioè L'hanno C'è andato Ma tu non sei un giornalista Sei un militante Esatto Dell'opposta passione Candidati Esattamente E così Io ti ascolterò E allora Il problema Qual è Venendo alla tua domanda Che è chiaro Che Giorgia Meloni Accetta un sistema Di compatibilità A proposito Di europeismo Capisce che non può fare Altrimenti Per difendere L'interesse nazionale Ma siccome Il suo punto debole Qual è È l'ossessione Della coerenza Cioè Quando Salvini Le mostra La Le Pen Lei ne soffre Perché teme Di essere Di perdere Quel mondo Che era La Le Pen Parla a una parte Di sé Giorgia Meloni Non solo a una parte Dell'Ettore Parla a una parte Di sé E allora Diciamo L'obbligida E anche lei Ci mette del suo Con le sue sparate Ieri È la famosa Comunque È la famosa Politica Dei due forni Elettorali Cioè Da una parte Ti fai vedere Istituzionale Dall'altra I tuoi Continuano a usare Metodi Un po' fascistenti Diciamolo No I sondaggi Anche su questo Tradimento qui Io non tradisco Capisci Però Questo crea A me Ci sono dei cambi Di posizione Che non piacciono Dopodiché Guardando i sondaggi Ammesso che siano Corrispondenti alla realtà Delle volte ci sorprendono Non sembra che poi Ci sia stata questa fuga Dell'elettorato Dal Giorgia Meloni Nonostante Evidenti Cambiamenti Cambiamenti E di linea Quindi Delle due L'una O il problema C'era Giorgia Meloni O il problema C'era la sua posizione Mi permetto di dire Sgarbi Che secondo me Che secondo me Che non capisco niente Di politica Quello che dice Alessandra Moretti Cioè Che Giorgia Meloni Sta occupando Saldamente Il campo Diciamo Europeista Perché non ne può fare a meno Gioverà A Giorgia Meloni In termini elettorali Perché poi Questo qui È vero che è un paese Che ha delle fiammate Nazionaliste Incazzate Ma poi Alla fine È un paese Abbastanza moderato C'è un paese Che sull'Europa Ti dice Meglio che ci sia Anziché no Per esempio Che le grandi avventure Non le seguo a lungo Quindi questa crescita Di Meloni Come leader Centrista Diciamo quasi Secondo me Dovrebbe preoccupare Quelle come la Moretti Devo dirti Che io Nella mia vita Sono l'ora in televisione Mille volte Ma questa è una puntata Molto difficile Perché Non so se noi Dobbiamo difendere Salvini Perché io sono In quel governo Dobbiamo dire bene Come stiamo dicendo Tutti anche La sinistra O perlomeno gli amici Compreso te Che sono a questo tavolo Perché si può riconoscere Che lei è stata Oltre le nostre aspettative Capace È vero che lei Occupa un campo Che è più al centro Quindi potrebbe Teoricamente Perdere un po' Della destra Che l'ha seguita Non pare che lo perda Però c'è un paradosso Che la visione di Salvini È ideologica Che se lei va al centro Io mi sposto a destra E prendo i suoi voti Non accade Che il voto Sembra andare Quasi in una dimensione Divistica A quello che vince Una volta è andato A Berlusconi Una volta è andato A Renzi Una volta è andato A Salvini Lei vince E dovunque stia Io sto con lei In questa fase almeno È una fase ancora Di una di miele Quella è ancora Grega consenso Io non trovo male Che Salvini Cerchi uno spazio Il problema vero Mi pare Di quelli che sarebbero Centristici Quelli di cui non parliamo Perché non ci sono Che sono Forza Italia Allora I voti di Forza Italia Dovrebbero andare Alla Meloni I voti di Salvini Dovrebbero prendere Una parte Pezzetto della Meloni Quindi forse il problema È fare una puntata Su cosa farà Forza Italia Su quale capacità Abbia di stare Veramente al centro Di essere veramente europeista Se quel posto Lo occupa Morto Berlusconi Ma il leader Di Forza Italia È Tajani? Io non vedo leader In Forza Italia Ah ecco Questa è la domanda Fanno un congresso Da quando Pochissimi Pochissimi minuti No però lo dico Perché è complicata Questa puntata Pochissimi minuti Tornate qua Un po' più resistente di me Ma io non so che dire Pochissimi minuti Tornate qui Penso come la pensano loro Concludiamo con Canova Che è il mestiere Che fai meglio Diciamo Perché come sottosegretario Io ho qualche dubbio Diciamo Sono ottimo C'è qualche considerazione Sai cosa ho fatto oggi? Come organizzatore di mostre Ho dato un segnale Perché a Lucera C'è una fortezza Gioina Meravigliosa Voglio fare una biglietteria Orrenda Di ferro E vetro Ho detto Cerchiamo che la sovrintendente Faccia il suo dovere Per cui io faccio Il sottosegretario Per difendere Il paesaggio italiano Che è distrutto Dall'eolico del meridione E torturato dal fotovoltaico Anche nel centro E quindi Ho delle ragioni Per il resto Canova è una mostra importante Che chiude Il secondo centenario Della sua morte A Lucca A Lucca Perché a Lucca C'è una scuola Di pittori dell'ottocento Fra cui Pompeo Batoni Che sono stati Nella linea di questo Recupero del mondo antico E della classicità Che Canova fa Però quando tu vedi Paolina Borghese Ti accorgi che non è Una scultura antica È Venere Che diventa come lei È una sorta di Audrey Hepburn Che sta al telefono Seduta sul suo sofà Con un'aria modernissima È una ragazza Di oggi Non è una figura antica È uno scultore Che va oltre Le nostre aspettative Ma l'hai visto Che il ministro San Giuliano Ha diffidato il giorno Da pecora Di prenderlo in giro Sei solidale Col tuo ministro Sì sono solidale Con un solidale Sembra vostro Non ironico No no Mi dispiace per lui Nel senso che Il fatto che uno Che si dimetta uno così Vuoi Io non ho chiesto Come ho chiesto Le dimissioni di Sgarbi Sgarbi può fare Quello che vuole No non l'ho fatto niente Comunque il titolo Domani è Solidale col ministro San Giuliano Per le inaccettabili No E che lì dentro C'è la perfida Ceppi Cucciari Che è quella Che lo ha messo Dell'angolo La volta dello strega Quindi è certo Da allora c'è il dente Avelenato Mi fece ammettere Che non aveva letto I libri dello strega Come tutti gli altri Però Come tutti gli altri Li presenti Tra l'altro Secondo me Lui dovrebbe essere Superiore Insomma Nel senso che L'ironia Più parlano di te Più vuol dire che esisti E quindi Se loro gli fanno Un po' di ironia Glielo consiglio Così affettuosamente Perché lo trovo Una persona Simpatica e gentile Insomma Con me non propriamente Che è l'unico essere umano Che ha preso La lettera anonima E l'ha mandata A una Io non l'ho mai visto nessuno Con chiunque parla La lettera anonima E si buttano nel cestino Però Io sono processato Tra l'altro Sulla base Di una serie di suggestioni Che vengono La lettera anonima Di un tale Che si chiama Dario di non so cose Vabbè Vabbè Grazie per essere stati con noi E' finito? E' finita Incredibile E non hai neanche litigato No Sono ancora un po' spazato